Poi metti anche qualcuno di noi coorganizzatore, just in case. Io ho messo Matteo Rale, adesso metto anche voi. Sì, tra l'altro appena prima ho fatto lezione e ogni quarto d'ora mi buttava fuori il sistema, perché la rete non è molto stabile. Puoi iniziare, puoi iniziare. Ok. Ok, d'accordo. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo evento di orientamento al mondo del lavoro, che si intitola I Fidici nel mondo del lavoro, organizzato dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Studenti in Fisica, la AISF, sezione di Pavia. Io sono Matteo Galli, sono rappresentante presso il COR, il Centro Orientamento Universitario dell'Università di Pavia. Poi abbiamo Marco Candido, che è il presidente AISF della sezione di Pavia. Ed è presente anche Barbara Pasquini, che è la presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Fisica. Ora, l'evento di oggi è un evento molto importante nell'ambito del programma di orientamento allo studio, perché, diciamo, offre la possibilità agli studenti del corso di laurea in fisica, ma anche di tutti gli altri studenti delle superiori interessati, che non hanno ancora scelto il percorso di studi da intraprendere, di confrontarsi direttamente con l'esperienza di chi, prima di loro, ha seguito questo corso di studi in fisica ed è entrato con successo nel mondo del lavoro. In particolare, lo scopo principale di questi eventi di orientamento... Abbiamo perso Matteo. Bloccato. Successo quello che si temeva, prima del previsto, però. Ecco la prossima, Matteo, al Dipartimento, le chiedo di venire. Grazie. Grazie. Matteo ci sta raggiungendo perché io sono su una rete diversa che dovrebbe essere più stabile. Che tiene. Ok. Sto cercando anche di scrivere il mail al Dipartimento, perché non me lo fa mandare, quindi ci sono effettivamente dei problemi. Ciao Barbara, ciao a tutti. Ah, ci sei? Mi ha girato il link Lucio, ti confermo che non funziona quello del Dipartimento. Li vedete adesso? Sì. Ok. Ciao a tutti, benvenuti. Ciao, ciao. Allora, niente, finisco di dire due parole brevemente, così poi possono cominciare le persone invitate, i nostri ospiti. Dicevo che lo scopo principale di questi eventi di orientamento è quello di mostrare agli studenti che la figura del fisico, cioè di chi porta a termine un corso di studio in fisica, è una figura poliedrica ed estremamente flessibile, scusate, che è in grado di inserirsi con facilità in moltissimi ambiti diversi lavorativi che certamente non si riducono al solo ambito accademico. Ora, come sottolineava la volta precedente il nostro direttore, nel suo intervento, il fisico è, nel suo percorso di formazione, impara a porsi dei problemi e a risolverli, cioè diventa un problem solving person, cioè una persona in grado di dare un contributo prezioso e anche molto richiesto nel mondo del lavoro, indipendentemente dallo specifico ambito lavorativo. Ecco, diciamo, questa capacità del fisico di adattarsi e di emergere è dimostrata dalla varietà di incarichi e di ruoli che, come abbiamo visto la volta scorsa e come vedrete anche oggi, un fisico può ricoprire una volta entrato nel mondo del lavoro. Quindi spero che questo incontro stimoli e rafforzi, in ogni caso, il vostro interesse verso il corso di studi in fisica e soprattutto vi rassicuri sul fatto che, certamente, al termine di questo percorso di studi, non resterete disoccupati. Allora, prima di presentarvi i nostri obiettivi di oggi, lascio un attimo la parola a Marco Candido, presidente dell'Aes Sessione di Pavia, che vuole dirvi due parole. Ringrazio il professor Galli, ringrazio anche gli invitati di oggi per aver partecipato a questo evento. Ricordo che l'evento di oggi è il secondo di un ciclo di eventi che abbiamo organizzato noi del Dipartimento AESF di Pavia insieme al Dipartimento AESF di Milano Bicocca e il prossimo evento sarà il 16 aprile, venerdì 16 aprile. Gli invitati saranno Michele Grossi, che in realtà è uno studente di Pavia che al momento lavora presso IBM, Francesco Meynardi, professore presso l'Università di Milano Bicocca e lavora per una startup che si chiama Glass to Power e Luca Ravagnan, CEO e co-founder di WISE, un'azienda che si occupa di dispositivi medici. In altri eventi organizzati da AESF quest'anno, sono ovviamente tutti online, come sapete, però stiamo cercando di portarvi il più possibile delle cose innovative. Ricordo che quest'anno tutti i membri hanno a disposizione gli eventi di tutti i comitati, 17 comitati locali AESF in Italia e tra questi ci sono numerosi corsi di, ad esempio, Latec o di programmazione in Python e numerosi eventi, uno che ad esempio ha tratto la mia attenzione qualche settimana fa è uno organizzato dall'Università di Milano sulla fisica di Star Wars, che è stato molto simpatico, diverso dal solito. Inoltre vi ricordo che per gli iscritti AESF quest'estate, ad agosto del 5 all'8, ci sarà ICPS, che è la conferenza internazionale degli studenti di fisica che doveva essere a Copenhagen quest'anno, però sarà purtroppo online. Però per questo motivo le iscrizioni sono aperte a tutti i partecipanti e sono gratuite, perciò gratuite per gli iscritti ad AESF e a IAPS, che è l'Associazione Internazionale degli Studenti di Fisica. Perciò, se qualcuno è interessato a partecipare a questo evento abbastanza importante a livello internazionale, vi invito ad iscrivervi ad AESF e a provare ad iscrivervi a questo evento che si prospetta molto interessante. Vi metterò in chat diversi link, tra cui appunto il sito AESF, quello di AESF Avia, dove trovate tutti i nostri social, dove potete trovare le informazioni più recenti sul nostro comitato locale e su AESF in generale. E inoltre vi dico, per gli iscritti e per chi vorrà iscriversi, che prima della sessione estiva pensavamo di organizzare una riunione per discutere di diversi progetti. Detto ciò, ringrazio ancora una volta tutti e vi aspetto al prossimo evento, che sarà il 16 aprile. Benissimo, ok, grazie Marco. Allora, introduciamo ora il nostro primo ospite. Allora, prima di cominciare, l'idea sarebbe quella di terminare tutte e tre le presentazioni da parte dei nostri ospiti e poi aprire una discussione con domande, chiarimenti, curiosità, soprattutto da parte degli studenti, ovviamente. Quindi, direi, il primo nostro ospite è la dottoressa Manuela Dugio. La dottoressa Manuela Dugio si è laureata a Pavia nel 97, poi dopodiché ha avuto una fellowship di due anni presso l'Imperial College di Londra. È rientrata in Italia nel 2000 e ha avuto il primo impiego di fisico nel giro di una settimana, quindi a dimostrare appunto che i fisici si spendono molto bene nel mondo del lavoro. E dal 2007 è in Eletta, adesso al momento è Senior Physicist del gruppo di ricerca e sviluppo e, diciamo, la invito a raccontarci la sua esperienza in diretta. Grazie mille per l'invito innanzitutto e adesso scelerò lo schermo. Fatemi sapere quando vedete qualcosa. e dovreste essere in grado di vedere la presentazione. Ok, ancora grazie. È bello essere a Pavia un'altra volta, purtroppo, insomma, da casa, però arriveranno tempi migliori di sicuro. Sì, io volevo raccontarvi un po' la mia esperienza in Eletta e come ci sono arrivata, quello che un fisico può fare in un ambiente industriale. Quindi partiamo subito. Allora, questo è un po' l'outline della presentazione. Faccio vedere un po' il mio percorso per arrivare dove sono arrivata molto velocemente. Poi una presentazione di Eletta, l'azienda per cui ora lavoro, una presentazione del team di fisici in cui io lavoro, come i fisici possono contribuire alle fasi di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'industria medicale. E un esempio, un piccolo esempio recente della creazione di un prodotto Eletta Unity. Tutte le varie fasi, i problemi che uno deve risolvere, che i fisici devono risolvere per far uscire un nuovo prodotto al pubblico e renderlo disponibile per il pubblico. Allora, niente, tutto è iniziato, va via ovviamente, nel 1997, molto tempo fa. Ci tengo a dire che mi sono laureata con Allena, di cui ovviamente grandi ricordi. Subito dopo sono, non proprio subito dopo, comunque sono partita qualche mese dopo, sei mesi dopo mi sembra, per l'Inghilterra, per questa fellowship Marie Curie, che è una fellowship europea, all'Imperial College di Londra, sempre lavorando su applicazioni dosimetriche, in particolare in fantocci geometrici e antropomorfi, col metodo Monte Carlo, che ho imparato in realtà durante la tesi. Appena sono rientrata, è vero, però nel giro di una settimana sono rientrato, ho fatto un colloquio e me l'ho assunto subito come Radioterapia Produce Specialist in un'azienda rivenditrice di prodotti dosimetrici per la radioterapia ed è stato il mio primo passo nel mondo del lavoro, vero e proprio. Ci sono stato a un paio di anni, dopodiché mi ha rubato la 3D Line, che è un'azienda italiana produttrice, questa è una grande differenza, un'azienda può essere rivenditrice oppure un'azienda può essere produttrice essa stessa, di sistemi hardware e software per la radioterapia stereotassica, che è un tipo di radioterapia di precisione. Quindi il balzo è stato da passare da un'azienda rivenditrice ad un'azienda produttrice, in cui i problemi non si possono, non si può chiedere a qualcuno di risolvere i problemi, ma i problemi devono essere risolti tutti internamente. La 3D Line è un'azienda piccola, una ventina di dipendenti. Nelle aziende piccole si impara tantissimo, perché si devono ricoprire tanti ruoli contemporaneamente e veramente c'è una scuola enorme. Nel 2007 la 3D Line è stata acquisita da parte di Electa. Electa è una multinazionale che produce sistemi per radioterapia, poi ve la presenterò meglio. Da questa data ho ricoperto tante posizioni all'interno di Electa. All'inizio come conoscitrice dei prodotti che avevano appena acquisito e quindi li ho dovuti far conoscere a loro. Poi sono passata al gruppo di St. Louis negli Stati Uniti che si occupa di treatment planning. Poi sono passata alla modellizzazione dei fasci di protoni, quindi anche questo, tutte cose nuove da imparare. Poi sono rientrata in Europa, cioè in realtà tutte queste cose le ho fatte comunque senza spostarmi da Milano. testare lo sviluppo. Poi sono rientrata, ho passato di gruppo e sono entrata nel gruppo di Crowley in Inghilterra dove sono stata buttata dentro lo sviluppo di Electa Unity che poi vi presenterò alla fine delle slide. E una volta che questo è stato rilasciato sono uscita dal progetto e adesso sto facendo tante altre cose a seconda delle necessità. Ho nel frattempo anche preso un master qualche anno fa sulla gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi. Chi è Electa? Electa è una multinazionale piuttosto grande, 4.000 dipendenti in 30 nazioni diverse. 250 circa di questi dipendenti sono fisici, quindi tanti, ok? Sono una parte importante. La sede principale di Electa è a Stoccolma dove io però non sono mai stata. Abbiamo installazioni in oltre 120 nazioni, siamo quotati e quello che è più importante è che il 10% dei ricavi è speso in R&D. Quindi è una spinta grossa per continuare all'innovazione, per continuare a innovare. Ci sono più di 4.500 sistemi in tutto il mondo, milioni di persone sono state trattate o sono trattate con una soluzione Electa. Quindi, insomma, c'è la possibilità di toccare diverse e cercare di contribuire al fatto che possano migliorare la propria situazione. Electa è attiva specialmente nella radioterapia, ma con diversi gruppi al suo interno. C'è una parte più che si occupa della parte celebrale, dove la precisione è la parte più importante, quindi c'è tutto un gruppo molto consistente dedicato solo a questo e con la neuroscience Electa è nata. Prima faceva solo questo, poi pian piano si è espansa a fare anche altre attività. L'oncology è, diciamo, la radioterapia più tradizionale che copre tutti i comportamenti corporei. Io lavoro principalmente in questa fase. Ho lavorato tanto nella parte di MRRT, almeno tre anni in modo molto intenso per la creazione di questo prodotto che si chiama Electa Unity che fonde una risonanza ed un acceleratore lineare. Poi siamo attivi anche nella brachioterapia su cui io non ho mai lavorato e anche tutta una parte di parte informatica di cui ovviamente i sistemi sono complessissimi. Ovviamente non si può fare a meno di un supporto informatico per tutta la linea dei prodotti. Per chi non sa che cosa sia la radioterapia la cerco di spiegare in una slide sola si usa un acceleratore lineare che è questo qui che vedete nell'angolino è lo strumento più usato non è l'unico però è il più usato nei reparti di radioterapia per il trattamento dei tumori. Si utilizzano fasci di fotoni ed elettroni con energie che vanno da più o meno da 4 a poco oltre i 20 MeV che per noi sono alte energie. So bene che in confronto a quello che viene fatto poco oltre il confine italiano 20 MeV sono solo bruscolini però ovviamente noi non possiamo fare un buco nel paziente quindi ci limitiamo a delle energie più basse. Quindi questo è il range di energie di cui si sta parlando sia di fotoni che di elettroni ovviamente l'acceleratore è di elettroni poi i fotoni vengono creati attraverso un target ad alto z e come dicevo prima è indispensabile l'utilizzo di software avanzati perché ogni singolo trattamento per ogni singolo paziente deve essere modellizzato a priori personalizzato totalmente personalizzato con i dati specifici del paziente questi software si chiamano treatment planning system ho lavorato anche su questa parte del prodotto adesso non ci lavoro più tanto perché sono passata di più all'hardware qui vedete due esempi di trattamenti uno su una prostata con il risparmio dell'uretra e questo invece è un esempio di un polmone un trattamento polmone questo è un esempio particolarmente complicato perché è molto difficile calcolare bene la dose in un tessuto in un tessuto a bassa densità come il polmone è ed è molto importante saperlo fare poterlo fare in modo accurato inoltre i linac moderni si avvalgono anche dell'uso di quello che noi chiamiamo image guidance per il posizionamento del target sotto il fascio l'image guidance all'interno di un linac è questa parte qua quindi è come se ci fosse una piccola tac montata sull'inac prima del trattamento viene sottoposta a questa diciamo questa tac il paziente così si vede se il target è nel posto giusto e se non lo fosse si può sempre spostare attraverso il lettino ecco adesso siete tutti esperti di radioterapia ecco invece volevo presentarvi invece il team in cui io lavoro è un team di fisici io lavoro i miei colleghi sono tutti fisici i miei capi sono fisici noi io adesso lavoro insieme agli altri per la sede di Crowley in Inghilterra che si trova praticamente di fianco all'aeroporto di Getwick 5 minuti di autobus dall'aeroporto di Getwick comodissimo la sede di Crowley nonostante non sia la sede più più importante perché è quella di Stoccolma è la più grande dove lavorano circa 750 dipendenti a Crowley e a Pechino vengono materialmente costruiti i linac il nostro team è un team di 12 fisici siamo 4 donne e 8 uomini adesso non vi leggo tutte le nazionalità perché sembra una barzelletta quindi le potete leggere voi siamo meno donne che uomini è vero però in realtà sia il mio manager diretto che il manager dell'intero gruppo sono donne quindi è vero che siamo un po' sottodimensionate però in realtà siamo nei posti un po' chiave lavoriamo non necessariamente dall'ufficio anche prima dell'emergenza io lavoravo circa due terzi del tempo da casa comunque e copriamo fra tutto il team copriamo sette ore di fuso orario quindi è sempre un po' difficile trovare degli orari per fare i meeting fra tutti e noi ci occupiamo di tutte le linee di linee di linac cosiddetti tradizionali quindi non grazie Mi sentite? Adesso sì. Adesso sì, mi sa che sono caduta un attimo, non so se era un problema mio. Allora, riscero lo screen o lo vedete già forse? No. Allora, aspettate che... Allora, esco dalla presentazione e... Ok. Allora, proviamo ancora. Allora, zoom. Sono nel meeting comunque, sì, sì. Ok, allora, share screen. Screen. Ok, share. Ok, fatemi sapere se vedete... Funziona. Sì, funziona, perfetto. Allora, riprendiamo da qua. E meno male che ho detto che riprendiamo da qua, però vado veloce. Ok, fino a qua credo che mi avete sentito. Ok, quindi, dicevo che sottolineate in azzurro sono le parti di cui io mi occupo personalmente. Non mi occupo di tutto perché siamo un team di 12 fisici. Ognuno ha un po' le sue caratteristiche che lo portano a occuparsi di più di una cosa piuttosto che di un'altra. Quindi, all'interno di un LINAC tradizionale con i GRT, l'Image Guided Radiotherapy, quindi queste sorgenti di kilovoltage per vedere meglio, c'è necessità di una serie di competenze fisiche veramente lunghe. Bisogna sapere la fisica degli acceleratori perché bisogna avere la guida d'onda, la fisica delle radiofrequenze, l'ottica, fisica delle immagini per la parte di imaging, fisica medica, dosimetria e competenze sui rivelatori. Queste tre sono le mie specializzazioni, soprattutto la parte dosimetrica e la parte dei rivelatori. C'è sapere se io devo andare a misurare qualcosa, con che cosa la devo misurare, perché non tutti i rivelatori vanno bene per fare tutto. Quindi è estremamente importante sapere quali sono i boundaries di utilizzo di ogni singolo rivelatore, perché non sempre quello che dicono è vero. In aggiunta, per i LINAC non tradizionali, quindi le MAR LINAC, lo Unity, bisogna anche avere competenze della fisica in campo in magnetici. Cosa che noi prima non c'era necessità, perché gli acceleratori che utilizziamo noi sono acceleratori lineari, sono gli unici che non sfruttano il campo magnetico per poter accelerare una particella o per tenerla su una certa traiettoria. Quindi è stata un po' una rivoluzione, soprattutto anche e soprattutto nel mio caso per quanto riguarda i rivelatori, perché non è mica detto che un rivelatore che funziona per un LINAC, se lo metto sotto un campo magnetico di un Tesla e mezzo, poi dopo non mi funziona più, si rompe oppure inizia a volare per tutta la stanza. Poi, cos'altro? Quando dobbiamo fare, in particolare, che cosa dobbiamo fare quando dobbiamo disegnare dei nuovi prodotti? C'è una serie di input fisici per le fasi di esplorazione e di definizione di nuovi prodotti. C'è una parte di sviluppo preliminare che si fa in-house, cioè proprio da noi, che si chiama concept exploration, cioè vediamo se vale la pena andare per quella strada. Magari è una buona idea, quindi poi la perseguiamo, magari invece poi scopriamo che no, non era poi questa grande idea, quindi si lascia perdere. Queste cose vengono fatte in-house. Poi, collaborazioni di ricerca sia con università che con ospedali, ospedali universitari oppure ospedali clinici. Modellizzazioni computazionali per sapere in anticipo se qualcosa, tramite appunto metodi Monte Carlo, se qualcosa funzionerà o non funzionerà. design e test di prototipi e tutte queste idee spessissimo portano a brevetti. Quindi qua ci sono un po' di esempi, questa guida d'onda qua è pixelizzata perché mi hanno obbligato a pixelizzarla, quindi non è che ho messo una brutta foto apposta, però per forza così. Poi invece mettiamo che abbiamo finito la prima fase del design dei prodotti e poi bisogna svilupparli questi prodotti. Noi siamo in un gruppo di ricerca e sviluppo, quindi la slide precedente era per la fase della ricerca e questa è la fase dello sviluppo di prodotti. Quindi nella fase di realizzazione, abbiamo i nostri modelli computazionali che abbiamo fatto in precedenza, bisogna verificarli sperimentalmente. Sono buoni o devono essere magari ritoccati un po'. Verifica e validazione dei requisiti di prodotto. Un prodotto nasce con una serie di requisiti perché deve fare qualcosa e dobbiamo controllare che effettivamente una volta che sia fatto, prima di metterlo in commercio, che vada tutto bene. Insomma, pensiamo che ci sono sempre delle persone sotto ai nostri LINAC. Una parte importantissima di un'industria che lavora nel medicale è la conformità normativa. Noi spendiamo moltissimo del nostro tempo, anche noi fisici, per essere sicuri di soddisfare un certo numero di standard di sicurezza e di performance. Qui ho messo un po' di loghi. Tutta gente che dobbiamo soddisfare. Non ogni nazione, però parecchie nazioni hanno i loro requisiti e quindi ci sono sempre dei test leggermente diversi. l'ICI è per tutta l'Europa, l'FDA per gli Stati Uniti, poi la Cina e l'India sono due grossi, grossi mercati con i loro standard e dobbiamo anche soddisfare i loro standard. E poi ci occupiamo direttamente, noi fisici, dei controlli di qualità sulle macchine della ricerca e sviluppo. Noi di ricerca e sviluppo abbiamo delle macchine, dei LINAC dedicati nella nostra sede e di quelle macchine siamo totalmente responsabili, sia come settaggio iniziale, sia come controlli periodici. Io, essendo italiana e normalmente lavorando da casa, ecco, di questo faccio un po' di meno perché non sono sempre in sede. Prima, nel pre-Covid, io andavo su praticamente una settimana al mese, più o meno. Poi, ci sono altre aree in cui i fisici supportano il lavoro. Le vedete qua, radioprotezione, mantenimento e obsolescenza dei prodotti, dire va bene, questo prodotto lo portiamo avanti, questo prodotto basta, non lo supportiamo più, ne faremo uno nuovo. Manufattura e service, ad esempio, definizione di procedure di settaggio e test. Io ho partecipato diverse volte alla definizione di procedure, non tanto di settaggio ma quanto di test, processo di qualifica dei fornitori, interoperabilità con prodotti di parti terze. Siamo sempre in un mondo connesso anche con altri rivenditori, dobbiamo comunque essere sempre sicuri che tutta la catena funzioni fino alla fine. Supporto post vendita al cliente, solo come escalation ci sono una serie di livelli di supporto al cliente. Io sono al tier five, quindi al quinto livello, quindi solo se i quattro livelli prima di me non sono capaci di, prima di me e prima di noi, non sono l'unico ovviamente, se i primi quattro livelli non sono in grado di soddisfare una richiesta o una domanda, arriva a noi. E poi controllo, revisioni di manuali tecnici, materiale per training, gare, supporto durante le conferenze, visite ai clienti, richieste non standard che capitano sempre un po' troppo spesso, sempre più spesso di quello che uno possa immaginare. E poi ci sono altri fisici anche in tante altre parti dell'organizzazione, nel marketing, nelle vendite, customer support, application specialist, training, safety, top management, tanti dei nostri top management sono, top manager sono fisici. Il nostro, uno dei nostri CEO, l'ultimo prima di questo era un fisico, quindi a tutti i livelli. Ecco, un paio di slide per parlare delle competenze. Allora, da un ambiente accademico ci si può facilmente, direi, spostare ad un ambiente industriale, perché tante delle competenze che sono necessarie nella ricerca accademica possono essere, diciamo, riciclate all'interno di un'esperienza professionale tipo all'interno di un'industria. Quindi nell'accademia è necessario essere comunicativi, perché bisogna fare pubblicazioni, esposizioni, ma anche all'interno di un'azienda. Noi dobbiamo comunque scrivere dei report, fare delle presentazioni, quindi, cioè, dobbiamo essere in grado di parlare, di esprimerci, di scrivere in modo appropriato. Poi nella ricerca accademica ci sono sempre interazioni con scienziate, ricercatori ovviamente, no? Quello che è il suo cuore, però anche noi abbiamo tante collaborazioni, appunto, come dicevo prima, con ospedali universitari, centri di ricerca, laboratori nazionali, anche di fisica. Questo in particolare in modo molto stretto. Poi nella ricerca accademica uno deve essere in grado di creare dei requisiti per fare dei progetti di ricerca e per formazione superiore. E noi, anche nel nostro piccolo, ovviamente, anche a noi capita di supervisionare tesi di laurea, tesi di dottorato, far fare a degli studenti work experience. A volte poi li teniamo, eh? Poi, come accademici, bisogna essere in grado di fare analisi critiche di articoli scientifici, ma la revisione della retellatura scientifica per noi è anche molto importante. Quindi noi siamo sempre a guardare articoli, no? Poi promuovere la propria ricerca nella ricerca di fondi per la ricerca accademica e anche noi dobbiamo, certe volte, se abbiamo un'idea, dobbiamo convincere altri che la nostra idea è buona. E nella ricerca, nel campo accademico, è importante fare rete fra università, ma anche per noi le relazioni sono importantissime, non solo con gli ospedali, i centri di ricerca di laboratori, ma anche con i clienti, con relazioni interne ed esterne, con altri partner industriali. Quindi, insomma, si può riciclare tanto. Però ci sono delle competenze magari nuove che devono essere sviluppate, in particolare delle conoscenze specifiche sui macchinari, sulle loro applicazioni. essere consapevoli dei fabbisogni di una grande organizzazione commerciale. Essere all'interno di un'azienda di 4.000 dipendenti porta anche burocrazia, quindi noi dobbiamo essere pronti anche a quello. Dobbiamo essere consapevoli dei processi interni, delle regole industriali, come ho detto prima, tutti gli standard di qualità che ci sono, sono importantissimi. Capire le necessità e le priorità dell'azienda. Comanda ovviamente l'azienda. Dobbiamo essere molto flessibili nell'attuazione dei progetti. A me capita di lavorare su qualcosa e poi il giorno dopo c'è una priorità importante, devo mollare e rivolgermi ad altro. Capacità di lavorare sotto pressione con cadenze strette, molto strette anche. E se interessa, si può sviluppare leadership e gestire sottoposti o budget. Io di questo ho fatto veramente molto poco, mi sono accorta che non era la mia strada, ho lasciato perdere dopo un paio di anni. Poi, niente, questi sono alcuni esempi su delle cose di cui ho lavorato io personalmente e di cui sono molto fiera. Ci sono un po' di mie foto all'opera e queste sono un po' delle mie competenze chiave. La dosimetria, come ho detto prima, ma anche e soprattutto la dosimetria in campi estremamente piccoli, che non è la dosimetria normale. I caschi stereotastici per il posizionamento dei pazienti celebrali. Piani di trattamento, ho contribuito di sicuro all'introduzione di una tecnica VIMAT che ha praticamente rivoluzionato un po' la radioterapia. Modellizzazione dei fasci di protoni, sono molto orgogliosa di aver avuto anche a che fare con l'adroterapia. Noi non facciamo le macchine, però facciamo il software per gestirle. I modelli Monte Carlo, questo è un lascito della mia tesi e che lo porto avanti. Una cosa interessante che mi capita di fare, ogni tanto bisogna cambiare dei materiali all'interno dell'INAC. Bisogna controllare che il materiale nuovo vada altrettanto bene che quello vecchio. In particolare deve essere almeno altrettanto denso per shielding, non deve attivarsi e non deve avere vuoti. In particolare io ho lavorato tanto con la ghisa e con il piombo. Ho fatto parte di un piccolo gruppo dedicato all'installazione di un INAC in Bolivia a 4.150 metri di altezza. Questo era il problema più grosso, era che la pressione sono 625 millibar. Con 625 millibar è tutto un grossissimo problema. La camera d'organizzazione che noi utilizziamo per misurare ha due terzi dell'aria al suo interno e quindi ci sono problemi di rumore nelle misure che non siamo abituati ad avere a livello del mare. È stato interessantissimo. Poi mi sono occupata tanto di fintosimetria, in particolare con delle pellicule che si chiamano gaff cromiche, quelle vedete qua. Applicatori per elettroni, diversi modelli, testare nuovi modelli di applicatori per elettroni e persino l'effetto dosimetrico delle saldature, vedere quanto assorbono il fascio. Ecco, quindi adesso arrivo all'ultima parte della mia presentazione e volevo farvi vedere un esempio di una creazione di un prodotto, l'Ecta Unity, che è stato rilasciato nel 2018. Io ho iniziato a lavorarci nel 2015, quindi per tre anni. Niente, si tratta, come ho detto prima, di un acceleratore con una risonanza magnetica al suo esterno. Il ruolo della risonanza magnetica sta crescendo in oncologia. A livello di diagnosi, la risonanza magnetica permette di vedere i tessuti molli, quello che non si vede in TAC. A livello di simulazione e di gestione del piano di cura, ci sono già dei TPS in cui si possono gestire le immagini di risonanza e anche nella valutazione della risposta si possono vedere a posteriori le immagini del... oh signor, è andato troppo in là. Le immagini di risonanza per vedere come sta rispondendo il tumore. E quello che mancava era proprio la fase del trattamento e quindi adesso invece c'è un acceleratore di elettroni a fotoni guidato da una risonanza magnetica. e perché? Perché serve? Allora, innanzitutto c'erano delle richieste dal punto di vista del mercato, veniva richiesto di avere delle immagini di alta qualità ed in tempo reale e di poter seguire il bersaglio senza l'utilizzo di marker invasivi all'interno del corpo. Questo ci permette di ridurre il volume irradiato e quindi dose più basse ai tessuti sani. Il fatto di tenere le dosi basse ai tessuti sani è il vero limite della radioterapia. Quello che limita la radioterapia è il tessuto sano, non è il tumore perché bisogna stare attenti a non irradiarlo troppo. E quindi questo apre nuove possibilità di cura. E inoltre c'era questa richiesta forza di poter utilizzare delle informazioni multifunzionali quindi per la caratterizzazione della risposta biologica. Ci sono certe sequenze della risonanza in cui si può vedere come sta rispondendo il tumore e quindi vedere sta rispondendo bene sta rispondendo male e a quel punto lì durante il trattamento eventualmente cambiarlo precocemente per adattarlo alla persona per la sua risposta biologica. Cose impossibili fino adesso. ecco questo è l'Electa Unity e questo ha questo aspetto sembra una risonanza ma in realtà c'è dentro anche un acceleratore un acceleratore un monoenergia 7 MeV è accoppiato ad una risonanza da un Tesla e mezza e gestiti insieme con un workflow adattivo real time quindi in tempo reale durante il trattamento la risonanza è sempre accesa e quindi si può controllare che il il target non si sposti cioè noi noi respiriamo no? quindi basta solo questo per far spostare il target eccolo qua quindi è stato il concetto è stato diciamo sviluppato dal Adutrecht e abbiamo questo questo è la questo è l'anello della risonanza qui all'interno ed esternamente c'è l'anello dell'INAC che è questo pezzettino qua e che gira intorno intorno alla risonanza ovviamente sono due sistemi che non è che vanno tanto d'accordo uno con l'altro all'INAC non piace il campo magnetico alla risonanza non piace la radiazione quindi abbiamo dovuto adattare l'INAC per renderlo compatibile con il campo magnetico abbiamo dovuto adattare la risonanza per renderla compatibile con le radiazioni questi sono alcuni esempi di cose che abbiamo dovuto fare come sapete bene all'interno di un campo magnetico quello che succede una particella carica in un campo magnetico forza di Lorenz che cosa succede altera la traiettoria degli elettroni la curva noi eravamo abituati a dei LINAC acceleratori lineari in cui la particella sempre drittava ad un certo punto ci siamo ci siamo trovati a dover gestire a dover gestire delle particelle che si muovono in modo curvo che non ci piaceva tanto all'inizio e abbiamo dovuto innanzitutto creare uno scudo magnetico per il LINAC stesso in modo che dove le particelle vengono accelerate non ci fosse campo magnetico perché se no c'è una perdita di particelle che non arrivano al target non c'è più il fascio quindi abbiamo dovuto creare questo schermo in new metal per il LINAC stesso oh signor vuole che io smetto poi a questo ci ho lavorato personalmente io la caratterizzazione dosimetrica del fascio c'è una modifica del di come si comporta il fascio in profondità ma anche lungo la la sezione del fascio il fascio diventa asimmetrico di qualche millimetro solo mi sembra due millimetri e mezzo qualcosa di questo genere ma è troppo per una per una per una radioterapia normale quindi ci sono tutti degli accorgimenti per tenere in conto di questa di questa di questo spostamento del fascio e anche questo ho lavorato io in modo particolare per l'accuratezza del posizionamento delle lame abbiamo dovuto tutto inventare dei modi nuovi di fare delle cose che in altre linee che si fanno molto semplicemente proprio perché i rivelatori non tutti i rivelatori possono essere utilizzati ecco visto che vuole proprio che io vado alle considerazioni finali andiamo alle considerazioni finali lavorare come fisici nell'industria medicale ed in particolare nel campo della radioterapia è per me personalmente molto stimolante siamo sempre alle prese con delle innovazioni tecnologiche cui dobbiamo stare dietro che dobbiamo imparare che dobbiamo che dobbiamo poi applicare è una sfida perché ci sono tantissimi problemi da risolvere non c'è un giorno uguale all'altro c'è sempre qualcosa di nuovo che dobbiamo mettere a posto e che dobbiamo mettere a posto noi non possiamo chiedere a qualcun altro però è molto appagante perché possiamo veramente migliorare la vita dei pazienti veramente quindi ecco già solo che lo dico mi hanno subito i brividi quindi è bello sapere che possiamo dare una mano ecco e questo è se volete vedere le nostre posizioni aperte questo è il link e con questo vi ringrazio dell'attenzione spero di non averci messo troppo troppo tempo benissimo benissimo grazie Emanuela per questo bellissimo contributo grazie a voi se c'è qualche domanda urgente altrimenti io procederei con il secondo intervento c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa già adesso sono tra loro indistinguibili sì la sistema più semplice che possiamo avere che è il sistema di due particelle identiche non interamente tra di loro particella 1 forse non c'è forse non c'è forse non c'è non credo di poter rispondere ok benissimo ok allora grazie ancora Manuela Duglio e introduco il secondo ospite che invece è il dottor Mario Vescovi allora Mario Vescovi si è laureato nel 93 e 94 con indirizzo nucleare a Pavia naturalmente e dal 96 al 2005 è stato a capo dell'unità di numerical modeling di una company americana che opera nel settore dell'impiantistica nucleare poi nel 2005 ha costituito la sua prima società ed ora è direttore scientifico di iScience che è una società che dove dirige varie attività in ambito nucleare sempre legate principalmente allo sviluppo di applicativi per analisi numerica oppure la progettazione di strumentazioni per misure di flusso neutronico e lo sviluppo di detector innovativi quindi lascio la parola al dottor Vescovi che ci racconta la sua esperienza dopo la laurea devi accendere il microfono Mario non sentiamo ok si è spento automaticamente evidentemente dopo qualche minuto allora no stavo dicendo come hai detto tu ho lavorato parecchio tempo per una multinazionale americana che lavorava nel campo dell'impiantistica nucleare e mi sono praticamente sempre occupato di modellazione numerica e ad un certo punto ho avuto la sensazione che questa multinazionale non avresse più un grandissimo interesse sulle attività che io andavo a svolgere con il mio gruppo e quindi forse una carriera la mia un po' meno lineare rispetto a quella di Manuela ecco è giusto però riportare anche agli studenti ai laureandi insomma percorsi che non sono sempre così così semplici e ho preso una decisione un po' estrema ho preso la decisione di andarmene e di usare i soldi della liquidazione per costituire la mia prima società ed era appunto il 2005 come hai detto tu fu dura perché mi portai fuori anche le persone che lavoravano per me e questo significò per per più di un anno stare un attimino sui bracieri ardenti perché gli ordini non arrivavano gli stipendi dovevano essere pagati e quindi la situazione era abbastanza tesa come potrete immaginare e però insomma poi alla fine le cose sono più o meno decollate e negli anni abbiamo fatto varie esperienze abbiamo costituito altre start up alcune sono andate bene altre sono sostanzialmente fallite per cui le ho dovute in qualche modo liquidare però insomma i bilanci si fanno in modo complessivo ecco su più anni e il bilancio se sono ancora qua tutto sommato è positivo è positivo e detto questo io ho preparato una cosa avevo anche una presentazione però devo dire che tante slide assomigliavano molto a quelle di Manuela soprattutto quelle fra le 12 e 13 e la 20 ok dove si parla un pochettino su come viene organizzata una pipeline di sviluppo di un prodotto partendo dalla ricerca di base e stabilendo collaborazioni e cose di questo tipo voglio bypassarla perché andrei a ripetere poi alcuni concetti che aveva già presentato la Manu la chiamo così informalmente perché era una mia cara amica è una mia cara amica e vado direttamente se posso condividere il desktop a mostrarvi alcune immagini che sono rappresentative un pochettino del mio percorso lavorativo non mi piace chiamarlo carriera preferisco chiamarlo percorso lavorativo ok allora giusto partirei da qua perché qualche mese dopo essermi laureato fui assunto da questa multinazionale americana e mi trovai davanti un oggetto di questo tipo e dissi ma che cos'è sta roba cioè sinceramente mi sembrava una stufetta un radiatore un'opera di un artista incompreso ecco cioè io vi giuro che non sapevo che cos'era questa cosa qua e insomma me l'hanno dovuto in qualche modo spiegarlo siccome questa compagnia andava molto bene in quel momento decisero di mandarmi presso i laboratori di Los Aramos negli Stati Uniti e fu un bel challenge come si dice in gergo perché per chi di voi non lo sapesse quelli sono i laboratori del progetto Manhattan sono i laboratori più importanti del mondo per quanto riguarda insomma la fisica nucleare di base la fisica della fissione nucleare la fisica dei neutroni e via andare di questo passo e lì insomma con un picco Mario noi non vediamo le slide però eh ah ok allora devo fare diversamente forse rispetto vediamo un attimino vediamo le immagini ma ripicciolite ok quindi forse bisogna fare in una maniera differente Mario condividi condividi tutto lo schermo non solo l'applicazione e però mi dice che sono in condivisione schermo mi dice che sono in condivisione schermo riprovo un attimino perché di solito uso anch'io meeting di Microsoft quindi questa cosa qua nuova condivisione vedo una condivisione di Andrea Negri alquanto inquietante nel frattempo proviamo a fare diversamente così lo vedete più grande sì esatto così funziona ok scusatemi però è proprio la prima volta che uso zoom e usiamo sempre meeting per cui va bene ok quindi parlavo di questo oggetto no allora cerco un attimino cerco un attimino di riassumere cos'è questo è un assembly cioè un elemento di combustibile nucleare nello specifico con questo numero di rots è un elemento tipico di un reattore pvr cioè di un reattore pressurizzato che è un reattore che appartiene a una classe di macchine che è forse la più diffusa ci sono circa 270 reattori pvr in questo momento operativi al mondo i tubicini che vedete sono realizzati in una particolare lega di zirconio perché devono resistere ad altissima temperatura hanno un diametro di circa un centimetro e all'interno di questi vengono disposte queste pellete di combustibile nucleare che fondamentalmente è dell'uranio arricchito in concentrazioni di uranio 235 che può variare dal 4-5% sino al 2% lo dico a decrescere perché normalmente gli elementi maggiormente arricchiti si trovano più o meno nella periferia nel contorno diciamo così dell'elemento di combustibile e via via si va ad elementi sempre meno arricchiti portandosi verso il centro dove vedete quel pallino bianco che in verità è una cosiddetta road strumentale sulla quale poi mi addentrerò nel seguito questi elementi vanno a costituire il core del reattore quello che in Italia chiamavamo in passato nocciolo vengono disposti a costituire un array quello che vedete nello specifico qua è un BVR invece quindi un reattore ad acqua bollente fondamentalmente un bel pentolone d'acqua all'interno del quale viene messo questo array di elementi di combustibile nucleare che ovviamente riscaldano nel momento in cui ha luogo la reazione a catena di fissione e vedete che vengono proprio a costituire lo vedete qua in basso un array ok questi reattori nello specifico ad acqua bollente sono reattori in cui il moderatore cioè quello che porta il flusso di neutroni in fase termica è semplicemente acqua quindi sono macchine cosiddette intrinsecamente sicure perché quello che accade è che se per caso si dovesse diciamo esaurire l'acqua all'interno del nocciolo viene a mancare il moderatore e fondamentalmente la reazione termonucleare si arresta esistono comunque anche degli elementi di controllo che sono degli elementi crociformi che forse si intravedono qua nella parte alta che possono essere inseriti e disinseriti negli assembli per controllare il flusso neutronico e di conseguenza il procedere della reazione una cosa che non molti sanno è che all'interno poi di queste fuel road le singole pellete di combustibile nucleare non sono omogenee ma vengono distribuite per strati quindi c'è una distribuzione della concentrazione di uranio arricchito radiale ma c'è anche una distribuzione della concentrazione di uranio arricchito longitudinale lungo le road qua sono immagine che rubo un attimino perché è uno dei reattori più celebri appunto l'APR1000 della General Electric una pietra miliare dell'industria nucleare un reattore tipicamente BVR andiamo avanti nell'est d'Europa in Russia Ucraina e da quelle parti si sono sviluppati diciamo dei reattori un pochettino differenti che sono comunque dei reattori pressurizzati che però hanno elementi di combustibile vedete con una geometria un pochettino particolare ok in questo caso sono degli assembli a geometria esagonale che permettono diciamo di ottimizzare meglio lo spazio all'interno del core del reattore e quindi si risparmia molto in contenimento i reattori russi costano meno proprio perché tutto il contenimento del reattore è più piccolo ed è più piccolo anche perché gli elementi di combustibile nucleare all'interno con uno schema di questo tipo vanno ad ottimizzare meglio tutto lo spazio che trovano a disposizione questa è una foto che mostra un pochettino come sono fatti questi reattori con un signore all'interno vedete il reattore qua in fase ancora di diciamo di realizzazione che va ad inserire alcuni di questi elementi di combustibile all'interno di quella struttura di dodate che vedete in basso cosa facciamo noi sviluppiamo fondamentalmente dei modelli di calcolo che servono per far funzionare il reattore nucleare proprio perché il reattore nucleare perché funzioni deve essere mantenuto in condizioni di criticità questo significa che bene o male deve accadere questa cosa a seguito di ogni reazione di fissione nucleare nel momento in cui un nucleo di uranio 235 è fissione occorre che uno dei neutroni che accompagnano il meccanismo di fissione nucleare vada a innescare almeno un evento di fissione nucleare in un altro nucleo se questa cosa avviene costantemente si dice che il reattore è critico ed è in regime ottimale di funzionamento se invece si va sotto questo regime il reattore la reazione di fissione la reazione a catena di fissione si arresta molto velocemente ed è come se il reattore si spegnesse se si va oltre invece la reazione nucleare va fuori controllo e quindi insomma non è una cosa da poco che strumenti si usano per disegnare in qualche modo il funzionamento del reattore è molto dura utilizzare dei modelli di tipo deterministico perché qua ci sono in gioco miliardi di particelle e quindi si utilizza un approccio di tipo Monte Carlo per certi simili per certi versi simili a quello che utilizza Manuela nella pianificazione dei trattamenti in ambito radioterapico in verità però qua si va proprio a simulare la neutronica del reattore quindi si vanno si va a stabilire più o meno come i neutroni verranno distribuiti nel campo di reazione del reattore ci saranno delle zone più calde delle zone più fredde questo si capirà meglio dalla slide successiva ok dove si vede anche un pochettino proprio questa distribuzione longitudinale dell'attività neutronica e laddove ovviamente ho maggiore fluenza di neutroni laddove ho maggiore flusso neutronico ho più calore quindi io devo tenere sotto controllo anche dei meccanismi di trasmissione di diffusione del calore all'interno del reattore che sono fondamentali per il funzionamento del reattore e per l'ottimizzazione del rendimento del reattore stesso e tutte queste cose vengono simulate vengono simulate attraverso modelli di tipo stocastico fondamentalmente proprio perché l'approccio deterministico in questo caso purtroppo non può dare delle risposte adeguate dopodiché c'è un altro problema che è quello dell'ottimizzazione nella distribuzione di questi elementi di combustibile nucleare all'interno del core e anche il problema è di andare a distribuire le rods all'interno dei singoli assembli ogni volta che uno sceglie una configurazione deve fare una simulazione per vedere come stanno andando le cose e quindi può essere molto onerosa la cosa dal punto di vista computazionale perché se non si sceglie una disposizione degli elementi ottimizzata bisogna aspettare il risultato della simulazione che può essere anche dopo alcune ore nonostante la simulazione giri su cluster di calcolo molto potenti per capire se la scelta che è stata fatta è quella corretta quindi stiamo abbiamo in pipeline di sviluppo degli algoritmi che servono per ottimizzare la distribuzione delle rods all'interno degli assembli di combustibile nucleare e degli assembli di combustibile nucleare all'interno del core del reattore per ottenere una configurazione ideale di funzionamento del reattore tenendo conto anche di un aspetto nel momento in cui questi elementi di combustibile cominciano ad essere irraggiati ovviamente la composizione isotopica delle rods varia con il tempo noi andiamo a calcolare il ciclo di vita di un elemento di combustibile nucleare nell'arco di 12-24 mesi alla fine di questo ciclo di vita la configurazione è completamente perduta e quindi bisogna fare delle nuove simulazioni per ottenere delle nuove configurazioni del reattore e per mantenere la macchina sempre a regime ottimale ok pensate che arrivare a degli ottimi algoritmi di ottimizzazione nella disposizione di questi elementi significa risparmiare alla fine dell'anno anche decine di milioni di euro in combustibile nucleare sul singolo impianto quindi non è una cosa da poco permettetemi una battuta magari li dessero a me visto che sono il titolare della società no si limitano a commissionarci proprio lo sviluppo dell'algoritmo che poi utilizzano loro per arrivare alla condizione ideale di funzionamento delle loro macchine macchine che spesso sono anche molto diverse una dall'altra quindi ci troviamo a dover spesso fornire delle differenti diciamo differenti distribuzioni dei nostri codici per inseguire esigenze molto specifiche dei nostri committenti allora e qua andiamo su un altro argomento cerco di andare abbastanza velocemente perché spiegare tutto quello che facciamo con le varie sub le varie business unit le varie società non è così facile quindi vado proprio in modo informale perché cosa è successo che attorno al 2010 2012 mi sono accorto che con fondamentalmente la modellazione numerica che è un po' la mia specialità non ci riuscivo a pagare bene o male tutti quanti gli stipendi per cui ho chiesto ai miei clienti se avevano bisogno di qualcos'altro e loro mi hanno detto ma guarda Mario ci sarebbe questo tipo di problema noi utilizziamo questi cavi ok che vengono inseriti proprio all'interno delle rode degli assembli per andare a calcolare in qualche modo misurare il livello di flusso il livello di fluenza neutronica nel core del reattore e banalmente il numero di neutroni che vengono in qualche modo raccolti da questi cavi viene poi misurato attraverso un banalissimo circuito amperometrico che è quello che vedete lì e quindi mi sono trovato a vedere sugli impianti proprio dei volmetri degli amperometri per fare questo tipo di misura e dicevo porca vacca scusate io sono un po' informale perché sono proprio uomo di laboratorio mi sembra roba un po' troppo grezza ecco per considerata l'importanza di questa cosa per cui che cosa abbiamo fatto abbiamo cominciato a disegnare degli strumenti di acquisizione basati su elettronica embedded in particolare su piattaforma FPGA per ottimizzare in qualche modo la raccolta di questi dati e per arrivare a delle unità strumentali che fossero un pochettino più professionali considerato anche un pochettino il campo in cui venivano operate e quindi è venuto fuori uno strumento che poi con il passare degli anni abbiamo cominciato a vendere e che è andato anche abbastanza bene e mi ha permesso un pochettino di migliorare le cose sotto vari punti di vista un altro settore sul quale ci siamo buttati più o meno per la stessa ragione è stato quello dei detector in questo caso detector neutronici basati sulla sulla cattura nel boro 10 dei neutroni una reazione ben nota nel mio campo in quanto i classici neutroni veloci che accompagnano le reazioni di fissione nucleare tra i 2 e 3 mega elettron volt vengono poi termalizzati negli elementi di moderazione o in generale nell'acqua di moderazione e vanno ad avere un'energia propria che è sotto l'elettron volt ok? so che è qualcosa di veramente molto particolare per chi magari come voi lavora sta facendo l'esame che so io di fisica delle particelle elementari e ha a che fare con particelle da 1 giga elettron volt ahimè qua i neutroni quando vengono moderati raggiungono anche energie di questo tipo 0,025 elettron volt a quelle energie c'è una sezione d'urto di cattura interessante nel boro 10 di 3840 barn la reazione è quella che vedete qua sotto che comporta poi la produzione di litio con emissione alfa quindi si fa poi una rivelazione indiretta della particella alfa per fare la misura vera e propria di conteggio neutronico e ancora un altro meccanismo ben noto è quello della cattura nell'eglio 3 questi sono dei detector che sono molto presenti in ambito nucleare sfruttano una reazione un pochettino differente che è quella che vedete in alto ok ma qua c'è un grosso problema perché l'eglio 3 è un elemento molto molto raro in natura e diciamo che i gestori degli impianti nucleari gli addetti alla sicurezza nucleare gli addetti alle salvaguardi in ambito nucleare l'hanno secondo me un po' negli ultimi 20 anni sprecato nel vero senso della parola perché è successa questa cosa fondamentalmente dopo la sigla diciamo dell'accordo Stark nel 1985 quando si sono smantellate più di due terzi delle testate nucleari che erano state fabbricate follemente durante il periodo della guerra fredda dai secondari di questi testate nucleari è stata recuperata una grande quantità di elio 3 e per cui sciambole come si dice in gergo veniva usato per i detector alla grande questi venivano portati sugli impianti utilizzati in qualche maniera dagli ispettori venivano anche talvolta buttati per terra e questi tubi andavano depressurizzando andavano depressurizzando e quindi si perdeva l'elio 3 all'interno e di conseguenza anche la capacità del detector stesso di andare a rivelare i neutroni quando ci si è accorti che molti detector erano andati perduti perché l'elio 3 è stato disperso in ambiente ormai era troppo tardi e adesso non ce n'è più quindi cosa succede che ci dobbiamo inventare nuove tipologie per di detector per effettuare una rivelazione indiretta che sono saranno sicuramente dei detector molto meno affidabili rispetto ai classici tubi l'elio 3 ma sono ma sono in qualche modo fondamentali per per monitorare i flussi neutronici sia i flussi in particolare direi i flussi di neutroni termici ok quindi cosa sono poi i nostri prodotti di questa business unit in particolare sono questi semplici cavi che vedete qua che sono quelli che facciamo passare diciamo attraverso gli elementi di combustibile nucleare o che comunque sono veramente a ridosso del nocciolo del reattore che devono evidentemente resistere anche a temperature piuttosto elevate anche dell'ordine dei 600 gradi perché va tenuto conto che all'interno diciamo del core di un reattore pressurizzato l'acqua che funge da moderatore viene portata a pressioni molto alte in maniera che non vada in ebollizione che funga sia da elemento moderante ma anche da elemento dispersivo e veicolante del calore anche a temperature molto alte quindi questi cavi devono assolutamente resistere a quelle temperature e in tal caso vengono in qualche modo realizzati con delle leghe con dei materiali che sono quelle che ci vengono che devono essere utilizzati proprio in funzione di quelle che sono richieste dei nostri comitetti quindi sono dei banali cavi ma alla fine hanno un costo molto elevato e poi l'altra cosa che dicevo la detezione di neutroni termici che avviene in questo caso con dei counters con dei contatori di tipo liner cioè dei contatori che contengono all'interno degli elementi che in qualche modo reagiscono che hanno delle sezioni ad esempio di cattura o di scattering neutronico abbastanza elevate vanno a emettere delle particelle secondarie e noi andiamo a rilevare queste particelle secondarie andando poi a inferire una misura di conteggio neutronico stiamo studiando nuove classi di materiali qua preferiscono mettere immagini pixelizzate perché stiamo anche cercando di depositare dei brevetti e cose di questo genere dove la detezione di neutroni avviene con una logica di questo tipo materiale sensibile al flusso neutronico emissione di una particella secondaria che viene rilevata all'interno di un banale detector a stato solido quindi in particolare potrebbe essere anche un detector siliceo o potrebbe essere anche un detector sempre a stato solido basato su materiali un pochettino particolari se poi ci fossero richieste potremmo anche approfondire da questo punto di vista questo direi è uno schema di base di funzionamento del counter ho preparato oggi le immagini di mio assistente perché ero un pochettino incasinato direi che per degli studenti di fisica sono abbastanza ovvie però anche in questo caso sappiate comunque che i circuiti su cui si va a lavorare sono circuiti veramente molto semplici andiamo veramente a renderli più complessi a trasformarli in dei prodotti con tutta la parte di elettronica di acquisizione che viene fatta diciamo con piattaforme piuttosto performanti e con tutto il software che accompagna poi in qualche modo il prodotto un altro ambito nel quale ci muoviamo è la misura cosiddetta di salvaguardia neutronica che è basata su dei contatori che non devono semplicemente determinare il numero di neutroni che vanno ad incidere il detector in un dato unità di tempo ma devono anche in qualche modo tenere conto di come questi eventi neutronici vengono a distribuirsi nel tempo perché queste pattern in qualche modo di eventi neutronici sono indicative della sorgente con la quale stiamo lavorando questa è un'applicazione tipica da fresh fuel cioè da elemento di combustibile non ancora irraggiato per capire se la quantità di uranio 235 all'interno dell'elemento di combustibile è esattamente quella dichiarata o ne è sparito un pochettino ok quindi queste pattern diciamo di eventi neutronici altalli diventano in qualche modo l'impronta digitale dell'elemento di combustibile per capire se la quantità complessiva di uranio 235 e la composizione in generale isotopica dell'elemento è quella dichiarata o qualcuno ha fatto sparire qualcosa perché potrebbe essere sparita qualcosa perché come sapete l'uranio è materiale fissile che può essere utilizzato anche per ben altri scopi ok rispetto a quello della produzione di energia nucleare e quindi qua si aprono soprattutto in un'era come questa piuttosto complessa dal punto di vista politico degli scenari che possono essere anche piuttosto preoccupanti e qua mi fermo lascio a voi intuire questi sono dei collars che noi andiamo in qualche modo a produrre su misura per i nostri clienti che servono per queste misure di salvaguardia che contengono molti tubi Helio 3 ok che vengono posizionati all'interno di questi slab di moderatore all'interno diciamo del core in qualche modo di questi collar viene posizionato l'elemento di combustibile nucleare nuovo così come viene in qualche modo diciamo rilasciato dal produttore e si fa una misura di conteggio neutronico utilizzando una sorgente di americio litio che va a interrogare in qualche modo l'elemento e la misura complessiva di conteggio neutronico e le pattern neutroniche che vengono in qualche modo raccolte ci dicono se quell'elemento di combustibile nucleare è effettivamente conforme ok se non lo è è tosta perché questo oggetto che costa centinaia di migliaia di euro deve essere tagliato ok e bisogna andare a vedere all'interno che cosa è successo se ci sono ad esempio delle pellete non dichiarate se ci sono delle pelle non dichiarate è un grosso grosso problema direi che posso esaurire qua se poi avete delle curiosità sono a vostra disposizione ottimo grazie 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 Mario per questo tuo contributo ci sono domande o se no facciamo tutto alla fine va bene allora direi di introdurre l'ultimo ospite di oggi che è Angelo Bozzola Bozzola ora Angelo si è laureato a Pavia nel 2010 dove ha fatto anche il dottorato quindi ha preso il PhD nel 2014 dopodiché è stato due anni postdoc all'IIT l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e quindi è diventato è entrato in Cognix dove lavora tuttora nella sistema che è una società che produce sistemi di visione 2D e 3D industriale e dal 2019 è training manager Europa per Cognix quindi chiedo a Angelo di illustrarci il mio schermo certo allora aspettate che dovreste riuscire adesso a vedere il mio schermo credo mi confermate confermo perfetto va bene allora dunque buongiorno a tutti buonasera a tutti ormai e grazie veramente di questo invito assolutamente apprezzato e devo dire è una piacevolissima occasione di rivedere anche molti di voi che siete stati miei professori miei collaboratori durante durante il dottorato allora diciamo ho scelto di partire con una presentazione e una presentazione che fosse incentrata sul percorso no il percorso che mi ha portato a partire dalla laurea in fisica poi durante il PhD il postdoc il passaggio poi dalla ricerca all'impresa che secondo me in tutto questo percorso è stato lo snodo chiave ecco e successivamente quello che è stata la mia carriera o comunque il mio il mio processo ecco di sviluppo all'interno dell'impresa allora io credo che per parlare di una persona del suo percorso cosa ci sia di meglio del curriculum ecco quindi quello che vedete qui è il mio curriculum esattamente come appare in questo in questo momento una versione un pochettino condensa quindi questo sono io dunque qual è stato il mio percorso come ha giustamente detto Matteo prima io inizio il percorso di laurea in fisica sono stato appunto studente in fisica dal 2005 al 2010 successivamente sempre presso l'università di Pavia studente di dottorato dal 2010 al 2014 ho conseguito il dottorato appunto nel 2014 dopodiché ho attraversato due anni e mezzo di appunto di lavoro come ricercatore postdoc prima ancora presso l'università di Pavia successivamente presso la sede centrale dell'ITI a Genova sono un fisico della materia ho fatto appunto la laurea triennale in fisica quella che si chiamava laurea specialistica all'epoca in fisica della materia e ho sempre lavorato su argomenti di fisica applicata principalmente argomenti legati al fotovoltaico all'ottica e alla fotonica ok poi se avete delle domande delle curiosità dopo immagino che ci sarà tutto il tempo ecco per per questo a partire dalla primavera del 2017 mi sono spostato in Cognex Cognex è una multinazionale americana che come ha giustamente detto Matteo si occupa di sistemi di visione per l'industria dell'automazione quindi immaginatevi in qualsiasi settore produttivo no del nostro mercato per esempio se stiamo parlando del mercato italiano stiamo parlando del mercato automotive del food and beverage del packaging della logistica anche in buona misura del farmaceutico ok avrà delle linee di produzione dove appunto vengono prodotti beni su larga scala questi devono essere chiaramente controllati appunto mediante un controllo di immagini ok o un controllo di tracciabilità ho lavorato come application engineer per circa due anni e mezzo nell'autunno del 2019 sono appunto passato a training manager per l'Europa quindi il mio ruolo attuale è quello di coordinare tutta l'attività di formazione tecnica che Cognex porta avanti per i suoi clienti per i propri dipendenti e per le aziende nostre partner all'interno appunto della corporation dunque incominciamo dall'inizio no quindi questa è una foto abbastanza vintage diciamo ecco venne fatta durante il secondo anno di fisica quindi questa è la classe degli studenti di fisica del secondo anno è stata fatta col professor Piazzoli che era il nostro docente di magnetismo queste sono io e qui appunto vedete una buona parte dei miei compagni di corso di quell'anno ecco quindi qui avete diciamo tutta tutta la classe ecco alcune di queste persone sono andate a lavorare nell'industria altre hanno conseguito la loro carriera in ambito accademico alcuni sono andati a lavorare in finanza in banca qui avete proprio tutta una panoramica molto molto variegata ecco giusto una cosa visto che immagino che ci siano anche degli studenti delle scuole superiori connessi una cosa che immagino non sfuggirà ai loro occhi è che come potete vedere non ci sono centinaia di persone in questa immagine ok la nostra classe non dico che era delle stesse dimensioni di una classe delle scuole superiori ma un pochettino più grande ecco questo è stato un primo punto ecco che magari è bene sottolineare credo per gli studenti per gli aspiranti magari studenti di fisica poter usufruire appunto di un corso di laurea dove la classe ha una dimensione così limitata è a mio avviso un grande vantaggio aggiunge un sacco di qualità l'interazione con il docente è più diretta lui o lei hanno più tempo per voi quindi è veramente un grande valore aggiunto secondo me facciamo un passo in avanti quindi andiamo nel 2010 questa è una alcune immagini di quella che fu la mia tesi specialistica appunto fu una tesi sperimentale sotto la supervisione di Matteo Galli che fu il mio relatore di tesi dove lo scopo fu quello appunto di progettare e costruire un sistema sperimentale che è un manichetto ottico per la misura della risposta spettrale o dell'efficienza quantica in dispositivi fotovoltaici quindi appunto il gruppo il nostro gruppo si occupava appunto di ottica di fotonica il nostro scopo in questo caso era quello di essere in grado di caratterizzare il dispositivo quindi capire quale fosse l'efficienza di conversione dell'energia luminosa in energia elettrica da parte appunto in questo caso sia di celle solare che più nello specifico più nello specifico sul progetto di questi oggetti che vedete in questa immagine questi sono dei collettori dei concentratori solari basati su fluorescenza dunque fu un un periodo estremamente interessante questo della tesi il progetto fu anch'esso molto interessante e in collaborazione devo dire già subito con un'azienda quindi già a partire dalla laurea specialistica ebimodo di collaborare all'interno del mio progetto di tesi con Eni ho messo un po' di faccia in questa slide così appunto tutti possono vedere chi appunto c'era fu molto interessante Eni fu appunto l'ente che in parte finanziò e sicuramente fornì i primi campioni da studiare con il nostro setup questo progetto poi andò avanti anche durante il dottorato quindi io parto come fisico sperimentale e portai avanti diciamo questa questa branca questo questo settore della mia attività anche successivamente che cosa mi sono portato a casa di questi primi anni come fisico quindi siamo nel 2010 ovviamente questa è un'analisi che si fa a posteriori come vi ho detto questa è più una presentazione sul percorso e su cosa sono appunto riuscito a guadagnare questi anni allora io credo che negli anni della laurea in fisica sicuramente ci sporta a casa una base di competenze tecniche che ci definiscono in un certo modo come professionisti questa è appunto la nostra base tecnica di competenze queste ragazze non c'è tanto da girarci attorno ce la si fa studiando il secondo punto forse un pochettino inaspettato messo qui però dalla tesi di laurea sperimentale come quella che feci ebbi modo e me ne resi conto dopo di portare a casa un'ottima dosi di manualità quindi essere in grado di lavorare in un contesto di laboratorio essere in grado di mettere in piedi i propri setup fare dei test farli in maniera efficiente non perdere tempo da questo punto di vista ti dà anche proprio una manualità che è stata molto importante nei miei successivi lavori e soprattutto al momento in cui sono entrato in azienda e non da ultimo come vi ho detto è stato un percorso che ha visto due realtà già a livello della tesi specialistica quindi mi aveva già dato un'idea di quello che potesse essere il rapporto tra l'università e le aziende e su questo dopo tornerò ancora una menzione ecco importante che mi sento di dire ecco io sono stato all'uno del collegio Borromeo negli anni negli anni dell'università per chi appunto fosse ancora studente delle superiori Pavia offre un'ottima rete di collegi a posteriori penso di poter dire che sia stata un'esperienza che mi ha veramente arricchito tanto e me ne ne sono reso conto già durante ma soprattutto dopo ovviamente ci si portano a casa anni di amicizia anni di rapporti che durano ma anche il fatto di essere in grado di relazionarsi con persone che provengono da realtà diverse da ambiti diversi che studiano in corsi di laurea differenti credo che sia un importante punto per arricchire il proprio bagaglio e nel momento in cui magari dopo nella vostra carriera lavorativa vi troverete a relazionarvi con persone di ambiti diversi credo che questo sia un buon un buon un ottimo punto di partenza facciamo un basso in avanti quindi veniamo agli anni del dottorato quindi qua siamo tra il 2010 e il 2014 come vi ho detto seguo il mio dottorato sempre presso il gruppo di fotonica e nanostrutture dell'università di Pavia in questo caso il professore Andreani fu il mio supervisore del dottorato collaborai moltissimo con il professor Liscidini con Piotr Kovalceschi che in questo momento lavora per un'azienda che si chiama XTPL che si trova a Wroclaw in Polonia e con Davide Comoretto dell'università di Genova ho fatto solo una selezione ecco di coloro con i quali ho collaborato di più in questi anni la mia attività si trasforma quindi a partire da una figura puramente sperimentale inizio anche questo per collegarmi anche a quanto detto da Manuela e Mario prima nelle loro presentazioni inizio anch'io a interfacciarmi con la fisica computazionale con le simulazioni numeriche soprattutto in ambito dell'ottica e della fotonica giusto un assaggio ecco di quello che abbiamo fatto noi ci siamo concentrati sempre a meno io su argomenti di fisica applicata in particolare sul rapporto tra la fotonica e il fotovoltaico in sostanza che cosa si punta a fare appunto con la fotonica diciamo si tratta di nanostrutturare un materiale un dispositivo o un componente che entra in questo dispositivo nanostrutturarlo intendiamo proprio su scala nanometrica o comunque con delle dimensioni confrontabili con quello della lunghezza d'onda della luce ok quindi stiamo parlando proprio appunto di una nanostrutturazione molto piccola ok questo per cosa per andare a migliorare fondamentalmente l'efficienza del dispositivo nel nostro caso migliorare l'efficienza di assorbimento di un film di semiconduttore quando viene illuminato dalla luce solare ok quindi una buona parte di questa mia attività fu svolta appunto eseguendo delle simulazioni numeriche in questo caso il metodo era quello della rigorous couple wave analysis e andare a vedere appunto come si potesse ottimizzare un certo pattern un pattern fotonico posto al di sopra di questo appunto film film sottile di silicio o di altri semiconduttori al tempo stesso andò avanti anche la parte di attività sperimentale come esempio di questo ho scelto di prendere questo questo lavoro che appunto a differenza degli altri che ho pubblicato questo appunto è un brevetto un brevetto dove partecipare l'università di Pavia università di Genova e il brevetto era quello appunto di un nuovo dispositivo vola dire un concentratore solare basato su fluorescenza che integrasse però delle strutture fotoniche vola dire questi film di opale che sono queste palline piccole che vedete appunto in questa immagine allora furono anni molto belli di lavoro molto intenso che portarono anche ad una buona produzione scientifica secondo me e vediamo che cosa ci siamo portati a casa no da questi anni che cosa abbiamo imparato e quali sono stati i punti basi allora qui mi ricollego un po' a quello che hanno già detto Manuele Mario allora durante il dottorato ognuno fa poi un percorso di dottorato per quanto riguarda il mio aver avuto modo di partecipare o di scrivere direttamente anche un buon numero di progetti e pubblicazioni scientifiche mi ha sicuramente dato la possibilità di sviluppare delle buone capacità argomentative e questo è un punto che si usa molto nella propria attività lavorativa quando dovete chiedere qualcosa o quando dovete dimostrare qualche cosa dovete essere in grado di argomentare bene ok il secondo punto molto importante qui non parliamo di hard skills parliamo di soft skills sono proprio le capacità espositive no quindi essere in grado di scrivere articoli o fare delle presentazioni durante il dottorato di vario genere seminari presentazioni report di vario tipo da delle buone buone capacità espositive sia nello scritto che nel parlato non sottovalutate lo scritto ecco lo scritto a volte tende a essere un po' sottovalutato nella realtà attuale che si basa su immagini sul parlato su una comunicazione che deve essere diretta efficace rapida però verba vola anche scritta manent quindi comunque essere in grado anche di scrivere bene è una cosa che rimane e appunto è molto importante un terzo punto importante è quello delle figure of merit che cosa intendo qua intendo dire è che soprattutto nel ruolo attuale che ricopro ho tratto grande vantaggio dall'aver lavorato negli anni del dottorato sempre su degli argomenti applicati e soprattutto su argomenti di ottimizzazione quando si deve ottimizzare per esempio l'efficienza di un dispositivo che sia una cella solare che sia un altro dispositivo fotonico ok si va sempre a prendere una figure of merit cioè una quantità che si guarda che si tiene controllata questo è stato importante perché mi ha dato una mentalità orientata a individuare quelle che sono le quantità le figure di merito importanti in un certo processo in una certa decisione aziendale e trovare anche un modo per misurarle e per tenerle controllate quindi credo che questo sia anche un approccio appunto che i fisici hanno in un certo senso una marcia in più che un fisico possa avere in un contesto aziendale come secondo punto diciamo io durante il dottorato ho avuto modo di lavorare in un team che era anche un team internazionale ho avuto modo di viaggiare ho avuto modo di partecipare a congressi scientifici a convegni a fiere anche molto importante questo e credo che questi anni mi abbiano dato una buona capacità poi da applicare nel network building e una buona capacità anche di attrarre persone da ambiti diversi e comunicare in maniera efficace con persone di ambiti diversi ok e lavorando in un'azienda in quella dove lavoro io che si occupa veramente di tecnologia ma tecnologia per tutti i settori ok e dovendomi relazionare con persone che possono essere dai manager fino agli operai ok e questo è stato veramente un punto molto importante da terzo ecco credo che a prescindere poi dal ruolo che andrà poi uno studente di dottorato a ricoprire in un'azienda se andrà a lavorare in un'azienda e credo che aver appunto seguito un percorso di dottorato ti dia una mentalità aperta ok la capacità nel momento in cui ci si trova davanti a un problema di vederlo nella sua per quello che esso è e contestualizzato in un contesto più grande ok non solo come il piccolo semplice task che ci che ci troviamo ad affrontare no ma come parte di qualche cosa di più grande nonché la capacità di pensare out of the box come si dice no quindi a volte riuscire a trovare delle soluzioni innovative appunto out of the box il mio percorso andò avanti poi per altri due anni e mezzo quindi stiamo parlando da 2014 al 2017 tra l'Università di Pavia e l'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova sempre lavorando in ambito di simulazione numerica sempre in ambito ottico ok quindi qui imparai a usare per esempio più nel dettaglio anche dei software commerciali come numerical o console multiphysics e diciamo ebbi modo anche di toccare degli argomenti di ricerca diversi come per esempio la silicon photonics ok o il biosensing ok dunque quindi qui siamo già entrati in realtà nella parte più lavorativa no perché siamo già dei ricercatori postdoc a un certo punto della mia esperienza qui mi ricollego a quello di cui parlava prima Mario no diciamo ogni persona no si trova davanti ad uno snodo nella propria vita e è uno snodo che va affrontato in maniera abbastanza delicata no bisogna fare delle scelte prenderli in considerazione una delle mie scelte metto questa slide bianca e poi era cosa fare no di me dopo questo percorso d'accordo quello che facevo mi piaceva molto però al tempo stesso diciamo non riuscivo a trovare o a vedermi nel lungo termine nel lungo termine in quel tipo di realtà accademica e di produzione scientifica credo che sia onesto intellettualmente no per una persona anche riconoscere magari che l'ambito potrebbe non essere il suo nel lungo termine e credo sia giusto anche per dei giovani capire che ecco avere questi dubbi è una cosa assolutamente normale nel frattempo già da anni ero interessato accarazzavo l'idea diciamo no di passare in un contesto di tipo azienda avevo collaborato con delle aziende durante la laurea il dottorato ho avuto trascorso quasi due anni all'IT di Genova che è una un centro di ricerca che proprio è focalizzato sulla ricerca e offre molti spunti ecco per proseguire come attività di ricerca presso le aziende quindi la realtà delle aziende mi interessava quindi per rimanere in tema del meeting di oggi bisognava passare all'azienda presi questa scelta però ecco come in che modo in che modo un fisico come me appunto poteva cercare una posizione in un'azienda questi furono un po' i paletti che io posi ok ora sarei un tantino disonesto intellettualmente se dicessi che all'epoca avevo esattamente questi cinque paletti posizionati esattamente in questo modo ok però a grandi linee questo era l'identikit del ruolo che stavo cercando come fisico volevo un ruolo tecnico ok in un'azienda di solito passo mi sono sempre visto fondamentalmente come un tecnico un ruolo che fosse vicino al business dell'azienda io mi ricollego a quello che accennava Manuela nella sua presentazione le aziende fanno business ok un ruolo che fosse vicino al business e che prevedesse un livello di interazione alto con le persone anche con i clienti ok non è una cosa banale tenete presente che in un'azienda in un'azienda di medio grandi dimensioni come la mia che è confrontabile con le dimensioni di cui parlava Manuela per Electa per la sua ci sono tanti ruoli tecnici alcuni di questi sono più a contatto con il pubblico con le persone altri meno ok io ne volevo uno che fosse a contatto con le persone stavo cercando il ruolo che mi diede modo di utilizzare le mie capacità analitiche e le mie soft skills che avevo acquisito azienda in ambito tecnologico di dimensioni medio e grandi appunto cercavo una realtà di dimensioni medio e grandi indicativamente immaginatevi sopra i mille dipendenti un'azienda dichiaratura internazionale una multinazionale ecco e da quinto punto volevo trasferirmi a Milano anche per questioni insomma di vita privata appunto avevo già un'idea di dove sarei voluto andare a vedere quindi quello che si fa è in genere fare un identikit della posizione vedere cosa offre il mercato del lavoro fare l'intersezione tra questi due insiemi sperare che non sia vuota questa intersezione e poi passare alla parte dei colloqui si fanno dei colloqui i colloqui possono andare bene possono andare male io ho fatto anche dei colloqui che sono andati male proprio ok e fortunatamente al termine di questa fase ho avuto la possibilità di scegliere ma avevo più opzioni ok alla fine scelsi di andare a lavorare per Cognex ok quindi Cognex stiamo parlando della primavera 2017 quindi per quattro anni fa entra in Cognex Cognex come vi ho detto è un'azienda che si occupa di visione industriale quindi produce hardware software e servizi e vende servizi collegati ok qui avete alcuni esempi di quello di cui ci occupiamo noi ci occupiamo di smart camera quindi camere da montare su una linea di produzione che acquisiscono immagini e le processano a bordo e gestiscono anche altri componenti e gestiscono anche altri aspetti scusate dell'ispezione come la comunicazione la ricezione di output da altri dispositivi in linea produce dei lettori di codici industriali quindi anche essi da applicare in linea sempre per applicazioni di tracciabilità produce librerie di visione che possono essere integrate in applicativi PC da parte del cliente sviluppate in Visual Studio sviluppate in .NET ha acquisito come multinazionale tante aziende nel corso degli anni si occupa di deep learning quindi ha acquisito delle start up ok molto ferrate in questo ambito quindi ha integrato il deep learning nelle proprie librerie di visione eccetera quest'anno è il nostro quarantesimo compleanno ecco quindi questo giusto per dirvi che è una realtà che è presente nel settore da 40 anni quindi diciamo come azienda rispondeva bene all'identikit di azienda che avevo in mente e di modo anche di informarmi su LinkedIn ed innovando dei feedback indiretti su questa azienda quindi il feedback era buono immaginatevi ecco aziende affini o concorrenti possono essere Keyens SIC Rockwell Fanuc ABD Omron vi do questi nomi ecco giusto per contestualizzare il settore entrai come application engineer ok quindi stiamo parlando del 2017 che cosa fa un application engineer in un'azienda come questa questo grafico a torta molto semplice che vedete era indicativamente appunto l'impiego del mio tempo quindi io per il 60% eseguevo degli studi di fattibilità quindi arrivava un commerciale che aveva contattato un cliente e il cliente aveva una sua applicazione non so per esempio devo comandare dei robot per fare un pick and place devo prendere degli oggetti da una catena di montaggio li devo spostare dal punto A al punto B devo eseguire questo controllo devo localizzare i pezzi in maniera efficiente per favore dimensionate il sistema di visione quindi in media un tecnico impiega circa un giorno e mezzo due per produrre un report di fattibilità che è proprio questo ecco ho tolto i dati qui ecco non li ho resi pixelosi ho usato un unico un unico grande pixel nero in questo caso quindi voi come tecnici andate a fare il design del sistema dovete dire come deve essere fatto ok dovete indicare l'approccio software da seguire arrivare a delle conclusioni che può essere è fattibile con questo hardware è parzialmente fattibile perché ci sono dei vincoli insomma che devono essere tenuti in considerazione quindi non tutto è fattibile almeno come lo vuoi fare tu cliente oppure non è fattibile ok questo era il 60% del tempo quindi attività in laboratorio e qui si spiega perché la parte di manualità fu così importante no perché anche solo il fatto di dover montare e smontare no un sistema intero un sistema intero vuol dire una camera tutto un sistema di luce attorno quindi stiamo parlando di un sistema che occupa non dico un intero banco ottico per chi di voi ha già visto che dimensione può avere un banco ottico in media nei nostri laboratori ma quasi il 15% era attività on site quindi andare dal cliente fare dei test direttamente in linea perché non si possono riprodurre in laboratorio certe circostanze che sono presenti solo in linea quindi ho avuto modo in questo 15% del tempo di viaggiare in tanti importantissimi stabilimenti di produzione in Italia alcuni anche all'estero per fare test per fare delle demo per fare anche dei corsi presso i nostri clienti e quindi è stato un punto molto importante già il 20% del mio tempo era dedicato all'attività di training training tecnici dei clienti una cosa di cui si resero conto ben presto e mi resi conto anch'io è che come trainer ero bravo ok quindi venivo scelto spesso per fare i corsi ai nostri clienti nei nostri uffici noi abbiamo nella maggior parte degli uffici che abbiamo in Europa abbiamo delle training room nel nostro ufficio a Milano dove mi trovo io adesso quindi noi abbiamo una training room di 12 posti ok che è questa in questa immagine per ogni stazione c'è un sistema test diciamo che viene assemblato per il corso poi quando cambia il prodotto perché è un corso sul prodotto si cambia il sistema il cliente viene segue il corso fa pratica direttamente col prodotto due giorni quattro giorni una settimana intera magari e questo appunto è l'attività di formazione tecnica un ultimo 5% del tempo era dedicata ad attività di demo e di trade show quindi fiere anche qui si torna su una cosa che avevo fatto durante il dottorato per esempio questo è il team italiano questo sono io questo team italiano di Cognex all'SPS di Parma che è la principale fiera dell'automazione che si tiene in Italia e questo è il nostro stand quindi io come application engineer ormai senior avevo il compito di curare tutta la parte tecnica quindi tutto l'assemblaggio qui ci sono tante stazioni che non si vedono in questa foto tante stazioni con tutti i nostri prodotti curare tutto l'assemblaggio e nel momento della fiera quindi per quattro giorni quando entravano i clienti in questo stand che è bello grande erano una settantina di metri quadri quindi abbastanza grande se i clienti avevano delle domande tecniche essere al centro dello stand fondamentalmente per appunto ricevere le domande tecniche dai clienti o dal resto del nostro staff che è qui quindi staff prevalentemente composto da commerciali sul campo ok? ok quindi questo fu in sostanza il mio lavoro il mio lavoro per circa due anni e mezzo a questo punto arriviamo a luglio del 2019 quindi neanche due anni fa si aprì una posizione vacante come training manager ok cosa decisi di fare? decisi bene mi piace questa azienda voglio fare carriera mando una applicazione interna per questa posizione non sollecitata quindi la nostra azienda non aveva ancora postato la posizione su LinkedIn non aveva ancora pubblicato niente scelsi io di candidarmi per questa posizione no? lo feci passai attraverso un percorso di selezione interna di due colloqui ok e nel novembre del 2019 divenne training manager per Cognex quindi il coordinatore di tutta questa offerta tecnica per i nostri clienti che è il ruolo che ricopro ora ok quindi come è cambiato il mio tempo? allora essenzialmente ora ho due task se vogliamo definire due task nel mio lavoro quindi di cosa mi occupo? dunque il primo è sempre un'attività di training tecnico sui nostri prodotti per i nostri clienti o per le aziende nostre partner occupa circa il 35% del mio tempo questa enorme fetta azzurra che si vede è il lavoro di puro management e alcuni di voi si chiederanno sì ma che cosa fa per esempio un manager che si occupa della gestione dei training ve lo dico molto semplicemente dovete essere di supporto per il vostro business e per appunto la vostra azienda quindi nel concreto dovete fare meeting rispondere a mail rispondere a telefonate che possono provenire da tutta una vastissima gamma di soggetti all'interno all'esterno della vostra azienda per esempio i technical instructor del mio team gli application engineer quindi il ruolo che ricoprivo prima perché gli application engineer comunque forniscono un supporto nell'attività di formazione dei nostri clienti i clienti stessi ok i commerciali le aziende nostre partner i manager dei commerciali che sono delle figure estremamente importanti in un'azienda come la nostra i manager tecnici ci sono altri manager tecnici che si occupano del service per i nostri clienti con i quali io mi interfaccio molto spesso e la finance ok quindi 65% del mio tempo è appunto organizzare aiutare dando delle indicazioni concrete soprattutto ai nostri commerciali su quale può essere un certo percorso di formazione migliore per un cliente a seconda delle proprie esigenze è un lavoro estremamente variegato dove entrano in gioco delle dinamiche appunto di vario tipo ecco e posso dire questo è stato un punto questa attività me ne sto rendendo conto dove avere avuto modo durante il dottorato di lavorare con persone di ambiti diversi quindi sia delle aziende che in ambito in ambito accademico persone anche non laureate in fisica ok è un ottimo terreno di prova ecco di queste capacità giusto per intenderci ecco Cognex come azienda ha una taglia che è simile a Electa l'azienda di cui parlava Manuela noi abbiamo circa 2000 dipendenti per il mondo abbiamo uffici in 24 paesi come alcuni numeri di cui ha parlato Manuela appunto ricorrono anche nella nostra azienda quindi abbiamo diversi dipartimenti abbiamo per esempio dei dipartimenti commerciali dei dipartimenti tecnici di supporto al business un supporto tecnico una business unit un grande reparto di R&D Cognex come azienda investe circa il 16% in R&D del proprio fatturato quindi sono delle percentuali molto grandi ecco questi sono numeri e caratteristiche secondo me interessanti per dei giovani che stanno studiando fisica o che possono avere l'interesse in fisica cercare di filtrare anche delle aziende che investano in ricerca internamente questo può essere un punto molto importante per quanto riguarda i numeri dei training e quindi dell'attività che io seguo io formo i nostri clienti i nostri dipendenti dal punto di vista tecnico e i dipendenti di aziende che lavorano per noi quindi le nostre aziende partner organizziamo in Europa circa 300 corsi all'anno che possono essere nelle nostre training room possono essere presso il sito del cliente possono essere corsi online formiamo indicativamente 2019-2020 facendo una media circa 1500 studenti l'anno quindi sono numeri abbastanza importanti in nove lingue questo è il problema dell'Europa cioè che si parla di un sacco di lingue in Europa quindi abbiamo bisogno di un team che si occupi di corsi molto variegato quindi nel mio team io ho tre technical instructor uno in Francia uno in Germania uno in Polonia uno di questi ha un percorso esattamente uguale al mio quindi ha un PhD in fisica quando ero application engineer eravamo un gruppo di quattro application engineer per l'ufficio italiano uno di questi aveva un PhD in fisica quindi vedete un'azienda con certe caratteristiche mi ricollego a quello di cui parlava Manuela attrae anche dei profili di questo genere tenete presente ecco che però almeno per quanto riguarda il mio ruolo l'attività di training è fondamentalmente sì è importante in sé come formazione ma è anche un supporto al business quindi questo è un aspetto molto importante quindi l'attività del corso deve essere focalizzata a supportare il business esistente e possibilmente a generare un nuovo come manager dovete anche imparare insomma inevitabilmente prima o poi avrete a che fare con la finance quindi avrete dei goal in termini di fatturato i training per Cognex in Europa contribuiscono 700.000 euro di fatturato non è niente per i numeri di Cognex ma sono degli aspetti da tenere in considerazione quindi produrre un fatturato produrre un margine per poi poter avere un budget per l'anno successivo da poter amministrare ok quindi per concludere no io credo che si possa dividere no questa presentazione in due parti quindi la laurea in fisica cosa mi ha dato mi ha dato una base di competenze tecniche e soprattutto la parte di manualità in un contesto di laboratorio che ho avuto poi modo di usare come application engineer nel mio primo ruolo PhD e postdoc hanno dato un contributo molto importante quindi in termini di capacità analitiche out of the box una buona dose di soft skills ok essere in grado di organizzare bene in maniera efficace il proprio lavoro è partito credo dagli anni del dottorato questo e soprattutto da ultimo la capacità di relazionarsi con professionisti in realtà no ecco di ambiti differenti ok quindi questo mi porta alla fine della presentazione quindi vi ringrazio della vostra attenzione e cedo la parola a Matteo grazie Angelo grazie per averci riportato questa tua esperienza e ringrazio ancora tutti e tre quindi Manuela Mario appunto e ancora Angelo come avete visto sono tre esperienze molto diverse le prime due quelle di Manuela e di Mario partono da una laurea in fisica delle particelle e poi però si sviluppano su due percorsi molto diversi e quella di Angelo da una laurea in fisica della materia e appunto in un ambito ancora diverso vorrei sottolineare una cosa a proposito del percorso di Angelo il percorso di Angelo include anche il dottorato di ricerca che è una cosa che spesso da studente magari se uno ha già le idee chiare vuole sa già che non vuole intraprendere la carriera accademica tende a scartare come possibilità invece diciamo è una cosa che comunque offre moltissime opportunità anche quando si vuole andare si sa già che si vorrà andare nell'azienda come ci ha mostrato molto chiaramente Angelo quindi insomma vi invito tutti comunque a non trascurare questa possibilità sono d'accordo sì ecco a questo punto direi che possiamo aprire la discussione e le domande soprattutto con gli studenti appunto quindi chiedo se qualcuno ha qualcosa qualche curiosità qualche qualche chiarimento da chiedere ai nostri tre ospiti potete alzare la mano in reaction se volete sì Lorenzo Marti io avrei una domanda per il dottor Bozzola se possibile sì prego dunque mi ha incuriosito il fatto mi ha colpito diciamo il fatto che non so se darle del lei del tu non so per me per me il tu va benissimo ok volevo chiederti diciamo quando hai parlato della tua prima posizione come application engineer mi ha incuriosito il fatto che comunque tu non sei un ingegnere eppure la posizione è da ingegnere spesso si vede negli annunci diciamo di lavoro così posizioni come engineer e diciamo che uno rimane un attimo colpito dal fatto che comunque si ha una laurea in fisica non una in ingegneria non si è iscritti a un ordine né niente quindi insomma volevo chiederti se è una questione specifica della tua azienda oppure che è un qualcosa in generale che spesso si può competere per posizione di questo genere anche da fisici non è solo un caso isolato il tuo ecco no allora devo dire non è sicuramente uno dei percorsi più più gettonati o comunque più scelti in termini di grandi numeri io ho avuto modo di conoscere durante il dottorato altri appunto ex dottorandi che adesso che almeno sono passati attraverso un periodo come application engineer in realtà magari differenti ecco sempre in aziende di ambito tecnologico ma di ambito differente non è un percorso solo per gli ingegneri attenzione molti annunci che riportano engineer nel nome dell'annuncio poi magari sono annunci come sales engineer per esempio o business engineer non sono neanche lavori per ingegneri sono proprio dei lavori per laureati in economia ma se poi si spulcia nel dettaglio dell'annuncio ecco lì è scritto bene qual è il percorso desiderato da parte del candidato ultimo punto che è sollevato l'eventuale iscrizione a un albo professionale ecco quello credo che in Italia sia obbligatorio per alcuni tipi di ingegnere per esempio immagino ingegneri edili ingegneri edili architetti ma gli ingegneri più gettonati ecco per la posizione che ho ricoperto io che sono gli ingegneri elettronici ingegneri informatici ingegneri telecom per esperienza dei miei colleghi loro sono eccellenti application engineer non sono iscritti in un albo professionale quindi è a discrezione dell'azienda a quel punto ma ecco grazie mille prego se posso aggiungere una cosa a questo riguardo si ingegner si dice perché si dice si dice engineer però in realtà quasi tutte le le posizioni tecniche sono dette engineer ma non è non è necessariamente rivolto a un laureato in ingegneria comunque anche i fisici hanno un loro ordine io sono iscritta all'ordine dei fisici adesso è stato istituito nel 2000 mi sembra 19 recentemente e in realtà sarebbe obbligatorio per un fisico che faccia il fisico essere iscritto all'ordine dei fisici cioè un fisico che va a fare per dire il parrucchiere liberissimo ovviamente non deve iscriversi all'ordine dei fisici un fisico che faccia il fisico deve è obbligatorio l'iscrizione all'ordine con tutto quello che comporta l'iscrizione all'ordine quindi io cioè esiste l'ordine dei fisici e ci sono se posso fare un commento l'iscrizione all'ordine è obbligatorio per la fisica medica tutti i fisici no tutti i fisici no non è vero tutti i fisici sono equiparati ad essere fisici sanitari cosa a cui io non io non non condivido questa impostazione del 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 fatto che tutti i fisici siano definiti operatori sanitari no cioè fisici sanitari io stessa nonostante io lavori nel nucleare io non sono un fisico medico perché non ho fatto la scuola di specializzazione e non importa il fatto che io sia all'interno di una realtà di una di un'azienda che comunque lavora nel medicale c'è anche io conosco dei fisici che lavorano in una fabbrica che lavorano nella gomma e sono obbligati anche loro ad essere cioè a leggere purtroppo c'è quest'obbligo è stata molto dibattuta la questione ma certamente non vale per i fisici universitari e per chi è comunque dipendente non so per i fisici universitari io sono dipendente per i fisici universitari sicuramente no c'era stato un parere del cune dell'università so che era stata molto dibattuta la questione diciamo che la comunità dei fisici medici aveva voluto imporre l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale ma poi non si era applicata a queste cose comunque diciamo Angelo Bozzola è l'esempio ecco del fisico che lavora nel privato pur non essendo iscritto all'albo noi i fisici italiani noi ci siamo iscritti da quando è venuta fuori noi ci siamo iscritti cioè non non tutti i fisici solo quelli che fanno il fisico cioè fanno proprio il fisico ecco anche questo è molto cosa vuol dire eh non lo cioè io ce l'ho come signor quindi non posso esimermi a questo punto quindi quindi io non potevo dire no ma non è vero che faccio il fisico quindi cioè nel senso alla fin fine anche l'azienda mi ha ha detto vabbè se facciavolo no cioè quindi insomma alla fin fine almeno non è stato deciso così dico parlo per i fisici italiani eh cioè ecco nonostante io lavoro principalmente a Crowley certo ok adesso abbiamo Francesco Malaspina prego ah non ero con un computer di un'altra persona ok avevo una domanda per la dottoressa Manuela Duglio eh più che una domanda forse un un consiglio nel senso che eh il suo lavoro è direi un po' invidiabile e eh comunque ognuno potrebbe arrivarci in modi diversi attualmente però eh come ha parlato anche lei esiste sia la specialistica in biosanitaria che anche una magistrale che inizia con eh a introdurci nel mondo del della fisica medica lei per intraprendere una carriera come la sua consiglierebbe questo tipo di percorso adesso? Allora anche a me andava bene il tuo eh però comunque allora da un eh io non l'ho fatto io sono un fisico nucleare no? Quindi io non ho fatto la formazione specifica di fisica medica come dicevo non ho fatto la scuola di specializzazione e anche durante il corso di laurea eh non ho mai mh ho fatto poca pochissima dosimetria no? Comunque nonostante io ho lavorato nella BNCT però ho sempre parlato di flusso ma di flusso di neutroni e mai di dose eh allora da un eh sicuramente eh può aiutare no? però comunque gli strumenti di una qualsiasi laurea in fisica con qualsiasi indicazione eh gli strumenti che vi dà il corso di laurea eh come diceva Angelo vi permettono poi di imparare cioè quello che quello che dà di bello la facoltà di fisica è che io io ho imparato a imparare quindi quello che vi manca poi vi formate sul campo io la eh quando sono stata quando sono rientrata in Italia che ho detto dopo una settimana ho trovato il lavoro come application specialist perché anch'io ho iniziato io ho iniziato anch'io come application specialist a contatto con i clienti la la ditta si è subito resa conto che non sapevo in realtà niente e quindi quello che mi ha fatto fare è stato mandarmi per tre mesi a lavorare all'ospedale di Como per imparare sul campo quindi quello che è importante è che voi abbiate gli strumenti per poter imparare qualsiasi cosa partire con un percorso di fisica medicale diciamo sanitaria è un aiuto ma non è non è strettamente necessario ecco grazie mille ok altre domande avevo visto prima la mano di Andrea ma poi è abbassata no ha già ha già risposto Lucio per quanto riguarda l'ordine dei fisici ok che non si applica a noi ovviamente certo certo Fortunelli altre domande magari ho io una domanda per l'audience non so se si possono fare domande anche nell'altro senso approssimativamente voi come composizione tra studenti del liceo delle scuole superiori e università e studenti universitari come siete distribuiti riuscite a dare un feedback in chat mettendo L per liceo e U per università così ci facciamo giusto un'idea ok vedo un sacco di U sì ok c'è la sua schermo esatto ok quindi sono tutti tutti i studenti buona parte universitari sì 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 ok va bene quindi nessun'altra domanda scusate io avrei una domanda ma non riesco a alzare la mano quindi non trovo il comunque la mia domanda sarebbe aperta cioè a tutti e tre diciamo i ragazzi che abbiamo sentito oggi e in realtà Angelo forse ha già un po' risposto implicitamente alla mia domanda però volevo capire da voi quanto vi è servito comunque avere una formazione anche dopo la laurea magistrale se lo rifareste se è stato molto apprezzato comunque dall'azienda anche piuttosto che se vi è servito comunque nella vostra esperienza lavorativa ecco lascio magari parlare gli altri prima come ho già parlato vado prima io allora dunque io come post laurea io ho fatto solo come diciamo formazione ho fatto solo questa borsa di studio della comunità europea di due anni all'imperial college dove ho praticamente approfondito quello che avevo già iniziato ad imparare durante la tesi ho imparato a lavorare in un gruppo in un gruppo di lavoro e più che più quello che io rifarei sicuramente quell'esperienza perché mi ha insegnato a cavarmela cioè io ho preso sono andata a Londra cioè così io suggerirei l'esperienza non so se tanto dal punto di vista della formazione che comunque c'è stata certo però io suggerirei l'esperienza all'estero o come formazione o come anche l'attività lavorativa l'esperienza all'estero per me è fondamentale cioè ci dovrebbe essere ovviamente l'ho dato per scontato però l'inglese è imprescindibile imprescindibile e me i colloqui in Italia me li facevano in inglese non cioè non potevo parlare ma in italiano cioè non anche con i miei colleghi italiani comunque i colloqui sono stati fatti tutti in inglese perché cioè vabbè quello è dato per scontato io poi ho fatto successivamente un master però quello l'ho fatto per interesse personale e quindi cioè dal punto di vista della ricaduta lavorativa al momento non l'ho ancora sfruttato era perché mi interessava l'argomento quindi quello è stato diciamo per piacere personale quindi diciamo che l'esperienza all'estero comunque la consiglia anche un po' per la lingua sostanzialmente ma non solo per la lingua cioè questa la do per scontata la lingua la lingua purtroppo bisogna darla per scontata l'esperienza all'estero serve più che altro per appunto imparare a cavarsela in un ambiente cioè fuori dalla comfort zone come si dice buttarsi in un posto dove non si è protetti necessariamente e quindi ecco insomma io lo consiglio lo consiglio per questo va bene grazie mille sì magari mi sento di aggiungere alla alla domanda di Noemi e al commento di Manuela che è assolutamente pertinente esatto cioè anche nel mio contesto io come lingua lavorativa parlo inglese non parlo mai italiano con quasi nessuno degli interlocutori che ho ecco chiaramente sono in un ufficio italiano quindi quando Varco la porta ovviamente parlo italiano con i miei colleghi però sul lavoro cioè il 99% delle mie mail sono in inglese il 99% dei miei meeting sono in inglese ho un manager negli States l'azienda sede a Boston quindi ho un manager americano esatto e sono d'accordo anche con Emanuela se possibile l'esperienza all'estero o almeno entrare in contatto ecco con contesti di tipo internazionale ecco per esempio sempre il dottorato a Pavia aveva all'epoca in cui lo feci io dei progetti internazionali per esempio sto pensando al Marie Curie che hanno portato anche appunto dei dottorandi dall'estero a Pavia questo è un valore aggiunto scusate posso fare una domanda anch'io prego chi è? chi sta parlando adesso? Bavetta non trovo l'altata di mano ok perfetto perfetto ok volevo sapere finora abbiamo parlato di laurea magistrale dottorato ma mi chiedevo se invece con una sola laurea triennale si possa avere una carriera cioè non dico ai livelli dei tre ospiti di oggi però cioè se si possa dare un contributo cioè un contributo valido in quegli ambiti per esempio anch'io sono stata attirata molto dal percorso della prima ospite e mi chiedevo insomma se si potesse dare un contributo notevole anche solo con una triennale assolutamente io ho dei colleghi che hanno quello che si dice bachelor sì ai miei tempi non c'era no? cioè io avevo solo la magistrale quando ci siamo laureati noi era un percorso unico e quindi insomma eravamo tutti equivalenti al master però c'è almeno vi posso dire non ne ho parlato però io sono formalmente assunta dalla BU dall'ufficio dalla business unit italiana che si trova ad Agrate che ha la business unit ha dei compiti diciamo sul territorio di insomma di installazione dei prodotti del di training dei clienti supporto post vendita demo tutte queste cose supporto durante le fiere eccetera eccetera queste qui sono tutte cose che vengono fatte a livello diciamo più locale e io riporto direttamente non non riporto all'interno della business unit di Agrate io riporto direttamente a Crowley funzionalmente dico all'interno della business unit di Agrate ci sono tantissimi con laurea triennale che quindi possono portare questi contributi o almeno come inizio della carriera lavorativa ovviamente non si non si può diciamo accedere magari a una a una posizione all'interno di un gruppo di ricerca e sviluppo direttamente con la triennale però magari dopo un po' di fra virgolette gavetta che ho fatto anche io e di cui sono contenta perché mi ha dato la possibilità di imparare invece non si potrà accedere direttamente a certe posizioni però comunque dopo un certo periodo di tempo a fare dei lavori magari più localmente che sono i lavori in cui si impara poi dopo comunque nulla è precluso poi si sta sta ovviamente al singolo però certo certo grazie mille almeno da questo dal mio punto di vista personale grazie grazie se posso aggiungere una cosa anch'io ricevo riceviamo parecchi curriculum sia laurea breve triennale sia laurea magistrale facoltà di fisica facoltà di matematica facoltà di ingegneria prevalentemente e c'è una persona che fa una sorta di scrematura preliminare dei curriculum e porta a me che sono il direttore quelli che appaiono più interessanti e devo dire che io guardo molto la tesi di laurea fondamentalmente l'argomento proprio della tesi di laurea i contenuti della tesi di laurea e cerco di capire attraverso quello se questa persona si potrà adattare a una delle posizioni che ho aperte in quel momento non è semplice non è semplice perché facciamo tutti e tre un lavoro molto molto particolare e non possiamo pretendere che uno studente universitario arrivi già con degli strumenti pronti pronti per noi e quindi non è facile il lavoro di selezione non è per niente facile diciamo che suggerirei anche a chi è interessato a percorsi di fisica teorica proprio molto di base comunque di stare attento perché certe scelte vengono fatte magari a 20 21 anni poi quando a un certo punto a 24 25 26 ci si rende conto che si vuole abbandonare il contesto accademico avere anche qualche elemento di fisica sperimentare nel proprio curriculum universitario secondo me non è sbagliato devo dirvi che io ho assunto matematici e fisici teorici che non avevano mai visto nemmeno un oscilloscopio hanno imparato va bene però si impara tutto come ha detto Manuela si impara tutto però credo che alla fine un laureato in fisica possa avere almeno un esame di laboratorio nel proprio curriculum soprattutto di magistrale ecco io ero anch'io interessato a svariati argomenti di fisica teorica forse la cosa che mi appassionava più di tutti erano i buchi neri però quando era il momento non ci vedevo grandi possibilità ecco quindi ecco suggerisco di dire sempre un pochettino l'utile al dilettevole ok inserire nel proprio programma di studio sicuramente dei corsi che suscitano grandi interessi a livello individuale ma non dimenticare anche un qualcosa che potrebbe servire poi per per gli anni avvenire va bene mi permetto magari di aggiungere a quello che hanno giustamente detto Mario e Manuela io credo che quando ecco bisogna capire anche per esempio nella nostra azienda noi accettiamo dei candidati come technical trainer o application engineer con laurea triennale è il minimo minimo richiesto di laurea triennale non in un ambito specifico quindi questo per ricollegarsi anche alla domanda precedente genericamente ingegneria o science ok cambia il discorso se uno vuole entrare per una posizione junior quindi per entrare in una posizione junior questo è il minimo minimo requisito o in una posizione già cosiddetta staff ok o in una posizione senior perché si può anche già entrare in una posizione senior poi si può entrare come manager insomma si può entrare a tutti i livelli ecco con una triennale almeno nell'azienda dove lavoro io si entra in junior ok e quindi poi come ha detto giustamente Emanuela c'è poi una parte ecco di gavetta che poi è semplicemente farsi l'esperienza che è anche giusto farla e farla col tempo che serve ecco ma non è questo non non preclude di salire di mansione di livello ecco grazie grazie mille grazie altre domande no volevo magari chiedere qualcosa una domanda io a tutti e tre allora se voi c'è qualcosa che avreste voluto apprendere qualche competenza qualche conoscenza nel vostro corso di studi che vi sarebbe servita poi nella vostra esperienza che invece non avete non avete avuto mi rendo conto che è una domanda un po' difficile però insomma lascio prima parlare gli altri in base alla vostra esperienza per questo ma allora devo andare dietro di 30 anni per rispondere a questa domanda ma a suo tempo io ebbi delle grosse difficoltà per la carenza in termini di conoscenza degli strumenti informatici linguaggi di programmazione tools di analisi dati e di andare di questo passo anche perché poi quello è stato il mio pane quotidiano negli anni a venire era in quel momento forse un pochettino imbarazzante addirittura umiliante per me ammettere con i colleghi americani che io sapevo un decimo di quello che sapevano loro cioè in quegli anni sicuramente un'università americana dava un ventaglio più ampio rispetto al nostro e non è assolutamente un problema dell'università di Pavia o della facoltà di fisica inizio anni 90 ecco voglio precisare questa cosa perché poi quando sono divenuto un professionista mi sono reso conto che è anche un po' un periodo di epoche è un po' un periodo di epoche adesso sicuramente gli studenti iscritti alle facoltà di fisica e matematica hanno anche la possibilità di inserire nel proprio piano di studi magari un esame dove si trattano argomenti di informatica parliamoci chiaro informatica magari legata al calcolo non è che qua si pretende l'informatica gestionale o cose di questo genere però insomma essere immessi nel mondo del lavoro di allora senza conoscere un linguaggio di programmazione per me è stato piuttosto limitante ed è cos'è significato allora c'erano i manuali cioè c'era poca internet tanto a cartaceo e ti dovevi veramente sbattere parecchio a prendere in mano questa roba che non avevi mai visto all'università e non fu semplice chiaramente grazie concordo al cento per cento ai nostri tempi c'era un corso di fortran e basta e comunque io adesso le cose con Andrea Negri si sono infatti e volevo dire cioè come Andrea sicuramente si ricorderà io sono sempre stata molto imbranata dal punto di vista qualsiasi cosa con una tastiera o un mouse imbranatissima e ecco magari stavo cercando di dire di no ma non ce la faccio e niente quindi mi sono mi sono dovuta imparare tutto dopo e se ci fosse stato qualcosa che mi avesse preparato a quello quello che per me è stato lo scoglio più grosso no ma tutti noi lo diceva prima Mario cioè nel senso non avevamo a forza ma non ero un po' meglio non ero obbligatorio sì no non ero obbligatorio no era il posto era il posto della seconda lingua quindi quindi per me è stata la cosa e di questi di questo mi porto ancora un po' un un piccolo bagaglio ancora adesso perché come dicevo prima che per me la cosa più difficile di questa giornata è stata installare zoom perché cioè comunque sono sempre un pochino impacciata a dover nonostante cioè magari faccio cose molto più complicate però poi ho sempre un po' un po' il timore reverenziale rispetto a tutto quello che è che è sì esatto come diceva Mario benissimo tu invece Angelo che sei di una generazione diversa magari aiuta sì più che generazione sì sono una quindicina di anni ecco di differenza ma allora sono d'accordo con quello che hanno detto Mario Emanuela cioè avere un background non si sa mai troppo di programmazione secondo me e trovo che sia uno degli aspetti più come dire abilitanti professionalmente per un fisico per un ingegnere quindi sicuramente una abilità che vi vi proporrà come protagonisti ecco sul mercato del lavoro assolutamente poi chiaramente le offerte magari nei loro anni magari le offerte ce n'erano di meno ed era un altro tipo chiaramente di programmazione le offerte devono esserci poi le persone devono anche essere devono capire che devono appunto frequentare quei corsi una cosa ecco magari un po' diversa che mi farebbe comodo ecco diciamo di possedere nel mio bagaglio è dovendomi rapportare magari con tante persone che hanno un MBA avere alcune competenze o almeno il mindset che hanno magari laureati in economia che poi però hanno fatto un MBA perché da proprio cioè questa è la caratteristica diciamo del manager commerciale di alto livello è avere un MBA e proprio si vede utilizzano dei termini delle metodologie proprio che si vede che sono consolidate una cosa migliore ok questa dell'informatica se posso dire tanto l'ha detto anche gli speaker dell'altra sessione quella del 5 marzo hanno detto la stessa cosa però ecco tutti si riferivano a corsi di studi di qualche anno fa adesso da alcuni anni abbiamo un corso di Python nel dottorato e da quest'anno ci siamo dando da fare anche nel corso di Laura oltre al fatto che Andrea Negri insegna C++ dal primo anno quindi credo che la situazione sia migliorata da anni fa adesso mi scrivo sì per esempio diciamo nell'azienda dove lavoro io se un tecnico sa programmare in C++ è sicuramente già una base di alto livello anche avere un'infarinatura di C Sharp che credo venga quasi da sola se uno conosce il CQQ puoi passare a C Sharp in un certo senso non lo so ecco io non ho una solidissima base ecco come programmatore o JavaScript ecco questi sono i due linguaggi di programmazione che almeno noi usiamo di più sono molto abilitanti diciamo se uno conosce quello JavaScript e Python sono in questo momento sulla sulla cresta dell'onda ecco per cui io suggerirei di puntare già se la vostra tesi di laurea o la tesi di dottorato include elementi di modellazione numerica di analisi dati di big data analysis anche usiamo questo termine moderno perché spesso in ambito scientifico abbiamo a che fare siamo stati noi i primi ad avere a che fare con la big data analysis nel vero senso della parola il dato scientifico è sempre piuttosto massivo a priori è insomma un bel vantaggio avere una piattaforma come Python o come JavaScript che insomma navighi un attimino su web e trovi facilmente l'esempio che è calzante per quello di cui hai bisogno e quindi con minime modifiche riesci ad adattare il codice alle tue esigenze addirittura noi lo facciamo poi sui progetti con i quali andiamo in delivery per i nostri clienti spesso si parte da materiale già esistente lo si va in qualche misura a riciclare non c'è niente di male in questo ecco per cui se pensiamo che il 90% delle applicazioni che vengono in questo momento vendute sono applicazioni di tipo web immaginatevi quanto codice riciclato c'è dentro e quindi insomma anche i docenti universitari che hanno in mano un pochettino i cordoni della dell'insegnamento nel campo dei linguaggi di programmazione volendo dare una declinazione scientifica python e javascript hanno dentro tanto hanno dentro tanto pensate che nella nella prime tre settimane di emergenza covid-19 proprio al momento in cui è stata dichiarata la pandemia sono apparsi su gt hub circa una cinquantina di codici che simulavano il comportamento dell'epidemia non è poca roba cioè ecco diciamo quindi ecco gt hub per esempio è una notevole risorsa noi la usiamo tantissimo la usano i ragazzi che vengono da me e e quindi insomma suggerisco anche agli studenti che stanno partecipando qua di dare un'occhiata un pochettino a questi repository e vedere che cosa c'è prima di prima di cominciare a fare una cosa da zero è sempre bene vedere che cosa c'è già è sempre bene vedere che cosa c'è già perché tante volte ci troviamo un po' a scoprire l'acqua calda ecco nel campo della programmazione avrete capito che la mia è una società in cui il 70% del business lo facciamo proprio sul codice per cui parlo in questo caso un po' a ragione deduta certo e forse anche da aggiungere vabbè io faccio molto 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 sperimentale molto 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 analisi dati è una cosa importantissima la propagazione degli errori è una cosa proprio cioè fondamentale non so quanto ci si può fidare del proprio risultato mettendo tutto in conto cioè è veramente importante questa parte qua dell'incertezza di misura e la propagazione degli errori mi ricordo l'avevo fatta in laboratorio laboratorio due però cioè bisogna proprio non solo insegnarla ma anche applicarla cioè farla farla fare cioè non proprio magari anche questo è una cosa forse se posso aggiungere anche mi sembra di averla vista in un paio di slide della presentazione di Mario anche la parte sul deep learning che nella mia azienda noi lo tocchiamo come analisi di immagini quindi applicato alle immagini ma è una serie diciamo di tecniche di metodi ecco di analisi molto più vasto di questo e che quello secondo me può veramente spalancare le porte a ruoli tecnici che prima non esistevano e non so ve la butto anche lì magari presso aziende veramente importanti ecco per esempio Amazon sta investendo tantissimo nel deep learning Google ovviamente sta investendo tantissimo tutte le big tech stanno investendo molto i social insomma sono posizioni molto molto interessanti secondo me per delle persone che vogliono costruirsi un percorso come fisici bene altre domande dal pubblico no sembra di no va bene credo che possiamo possiamo finire qui allora ringrazio moltissimo ancora i tre ospiti per i preziosissimi contributi e vi ricordo ricordo tutti che il prossimo incontro di questa rassegna avrà il titolo fisici e imprenditoria avrà luogo il 16 aprile di quest'anno a cura di sempre di ICE l'associazione italiana l'associazione italiana di studenti di fisica e questa volta Milano Bicocca l'università Milano Bicocca il prossimo appuntamento per il 16 aprile riceverete comunque la comunicazione l'associazione italiana l'associazione italiana